Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, abbiamo il numero legale. Bene. Perché non rimane registrato? Non funziona? Sì, abbiamo il numero legale. Grazie, signor segretario. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Dunque, nomino scultatore per la seduta. Giulia Bevilacqua. Giuseppe Perrone. E Giovanni Delben. No, ma non c'è nessuno dell'opposizione. No, per adesso? No, non li vedo. Sì, infatti. Bene, saranno assenti i consiglieri Calogero Lopipero, sarà assente anche l'assessore Cataruzza. Arriveranno in ritardo i consiglieri Orsola Chieradia, Sonia Daniello e Francesca Cardin. Bene, do la parola al signor Sindaco che mi ha chiesto il potere. Buonasera, due brevi commenti da parte mia. Il primo riguarda i due ragazzi, Trifone Ragone e Teresa Costanza, che come tutti sappiamo sono stati trucidati letteralmente pochi giorni fa nella nostra città. Io volevo, credo a nome del Consiglio, da un lato augurare essere vicini alle forze dell'ordine e sicuramente alla loro costanza, allo sforzo che stanno mettendo nel risolvere questo caso. Questa mattina, parlandone in modo informale, mi hanno comunicato quanta gente da fuori sia venuta proprio per rafforzare le nostre capacità locali nelle indagini. Mi auguro altresì che la città, visto che siamo una città dove cose del genere non siano mai state successe, offre anche una collaborazione alle forze dell'ordine durante le indagini, ma soprattutto quello che io volevo esprimere era la vicinanza alle famiglie di questi due ragazzi, due ragazzi così giovani che sono stati uccisi in quel modo. Quindi io penso che la vicinanza di tutti noi a loro e al modo tragico con cui questo è accaduto ci stia e possa essere condivisa dal Consiglio. Il secondo passaggio e commento era relativo ai funerali delle vittime italiane dell'attentato di Brindisi. Io volevo chiedere al Presidente un minuto di silenzio proprio per ricordare le vittime. Grazie. Grazie. Vi ringrazio. In riferimento all'articolo 67 del regolamento del Consiglio Comunale, comunico che è stata fornita risposta alle seguenti interrogazioni e risposta scritta. Interrogazione numero 7 2015 del 9 febbraio 2015 presentata dal Consigliere Daniello Soni avente per oggetto cescolascrizioni o altre forme di democrazia partecipativa dei cittadini. Comunico inoltre che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio adesso le decisioni prese in conferenza del Capigruppo del 17 marzo per quanto riguarda i lavori della seduta di questa sera. Allora, i lavori avranno questo ordine. Si inizierà con l'esame della legge regionale della delibera collegata alla legge regionale numero 26 2014, determinazione in merito alla delimitazione degli ambiti territoriali previsti nel piano di riordino, dopodiché si dedicherà un'ora alle interrogazioni e si rimarrà tempo alle emozioni. La chiusura dei lavori è prevista per il 22 e 30, salvo che la deliberazione non richieda più tempo. Bene, passiamo allora al primo argomento all'ordine del giorno. Scusate. Passiamo all'esame della deliberazione numero 2 2015, legge regionale 26 del 12 dicembre 2014, piano di riordino territoriale adottato dalla giunta regionale con atto numero 180 del 4 febbraio 2015, osservazioni e determinazioni. Do la parola all'amministrazione, alla persona del sindaco. Prego, signor Presidente. Grazie, Presidente. Brevissima nota, prima di passare all'illustrazione e alla successiva discussione. Diciamo che il tema delle unioni territoriali intercomunali al centro del nostro dibattito politico a livello regionale, ma sicuramente anche a livello provinciale, ormai da qualche mese. Come giunta di Pordenone, essendo consci che la nostra città svolgerà, deve svolgere un ruolo importante nella trasformazione degli enti locali nel nostro territorio, abbiamo dato in carico a Renzo Mazzer di svolgere, di fare proprio il tema e di condurre le discussioni con sia i comuni del nostro ambito che, dal punto di vista dell'analisi del tema, di cercare di approfondire in senso compiuto e in senso lato il tema stesso. Cosa intendo dire? Il tema dell'UTI ha sicuramente due dimensioni con cui può essere affrontato. Quello della efficienza da raggiungere, dal punto di vista dei servizi della pubblica amministrazione e quindi il fatto che si mira a qualcosa dove, dopo un periodo di avvio, tutti quegli appartenenti ad una determinata Unione abbiano un vantaggio dal condividere servizi competenze e quindi verso il cittadino alla fine si dia una duplice risposta di risparmi e di maggior qualità e l'altro di programmazione del nostro territorio. È inutile che condividiamo ancora una volta il fatto che con una programmazione territoriale più coordinata rispetto ai nostri comuni vicini e limitrofi, probabilmente la sincronizzazione di tutti i centri commerciali lungo la Pontebana avrebbe potuto avere un'altra connotazione, un'altra configurazione. Bene, siamo partiti proprio da questo e quindi l'analisi che questa sera Renzo Mazzer ci illustrerà ha cercato di svolgere in tema il tema usando queste due dimensioni ed evidenziando entro i limiti di utilizzo della legge regionale, quindi non facendo niente che vada al di fuori della legge stessa, che cosa veramente si potrebbe creare a livello di nostro territorio, di provincia o quanto il ruolo del Comune di Pordenone come leader di questa aggregazione potrebbe spingersi dal punto di vista della creazione delle future UTI stesse. Quindi questo era solo per dare un po' il tono di quanto andremo a svolgere. Adesso chiederei a Renzo Mazzer se il Presidente lei è d'accordo. Sì, scusi Assessore, un attimo, che deve aggiornare... Sì, prego. Che è successo? Deve aggiornare i dati del computer. Sì, grazie Presidente e grazie al Sindaco per la sua presentazione. Partiamo dal perché siamo arrivati a questa convocazione. Legge regionale 12 dicembre 2014 numero 26. Questa legge, che è quella del riordino del sistema delle autonomie locali in Friuli e Venezia Giulia, prevede alcuni passaggi, alcuni step. Uno di questi è all'articolo 4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del 23, quindi con un tempo congruo prima della scadenza ultima delle osservazioni da presentare alla Regione, un tempo congruo che ci permette, in qualche maniera, di dare delle indicazioni come comuni e capoluogo, non soltanto a noi stessi, ma anche di dare indicazioni ad altri comuni, visto che di fatto abbiamo cominciato a studiare l'applicazione delle UTI, come si costituiscono le UTI, anche perché abbiamo una struttura più adeguata ovviamente rispetto agli altri comuni, già da un po'. E per permettere questo tipo di... per rendere consapevole l'intero consiglio comunale del parere che dovrà esprimere, vorremmo presentare questo che è uno studio, non lo chiamiamo neanche studio, sono una serie di ipotesi, di valutazioni che noi abbiamo fatto partendo proprio dalla legge, rispettando quindi i termini della legge, rispetto alle deleghe di funzioni che vengono assegnate in proprio alle UTI e a quelle funzioni che invece le UTI faranno, eserciteranno per conto dei comuni. Quindi ci sono due competenze diverse, una che verrà fatta dalle UTI e la governance UTI stabilirà come si faranno quelle funzioni, l'altra invece sono le funzioni che le UTI come service, diciamo, dei comuni eserciteranno per conto dei comuni. Dicevo di ringraziare i capi gruppo che erano in conferenza perché vista anche l'importanza della materia, visto anche il fatto che il comune capoluogo debba esprimersi per primo, ci hanno consentito di portare questo atto deliberativo un po' in difformità a quelle che sono le regole. Noi non siamo passati mai in una commissione consigliare, siamo venuti direttamente in consiglio a discutere di questo, proprio in accordo con la conferenza di capi gruppo e anche sui tempi con i quali abbiamo presentato, avete ricevuto la convocazione, presentato la documentazione, avete visto che i tempi non sono stati rispettosi dei classici tempi che noi utilizziamo per le convocazioni dei consigli comunali. però era importante appunto che il comune capoluogo arrivasse per primo a dare questo parere e a dare anche questa indicazione e potesse sviluppare anche dei ragionamenti che potrebbero essere utili non solo a questo consiglio ma anche ad altri consigli comunali. La premessa è che non è in discussione la legge. Adesso noi sono certo che nell'ambito di questo consiglio noi troveremo consiglieri che sono favorevoli a questa legge e consiglieri che sono contrari ed è ovviamente un'opinione rispettabile sia quella dei favorevoli sia quella dei contrari ma l'oggetto della convocazione del consiglio non è dare un parere sulla legge in se stessa, sul riordino, sul come la regione intende riordinare il sistema delle autonomie locali. Il nostro parere vincolato dall'articolo 4 è dire come volete organizzare il vostro territorio rispetto alla legge e alle finalità della legge. Lo metto in premessa perché questo ci è utile per centrare un po' di più l'argomento perché la consigliera Pice in questo dibattito l'ha sicuramente vissuto già in consiglio regionale e ovviamente sappiamo lì che ci sono state determinazioni diverse. Vorremmo che questo fosse un tempo utilizzato invece in maniera positiva nel senso per capire quali sono le opportunità data la legge per come esercitare queste funzioni di unioni territoriali intercomunali dei comuni. Beh però una considerazione la possiamo fare anche. Se siamo arrivati a fare una riforma delle autonomie locali è perché probabilmente così come eravamo organizzati qualche problema c'era e quindi era necessario provvedere soprattutto per quel che riguarda i piccoli comuni a dare anche delle occasioni di rafforzamento delle loro attività e di solidarietà del resto del territorio rispetto all'attività dei comuni in particolare quelli più piccoli che hanno le stesse competenze del comune di Pordenone ve lo ricordo quindi dobbiamo esercitare con molto meno personale le stesse competenze che esercita attualmente il comune di Pordenone. Io vorrei che questa riunione fosse anche visto che abbiamo proposto una delibera ma abbiamo proposto una delibera che può essere anche emendata, può essere corretta, può essere aiutata a essere migliorata e non abbiamo l'idea che quello che abbiamo proposto sia la verità in assoluto e quindi liberi anche di fare delle proposte che ci consentono di migliorare quello che abbiamo studiato e che abbiamo proposto e che vorremmo proporre anche la ragione perché si migliori anche il modello che andremo poi a costruire che vi ricordo è un modello che potrebbe cristallizzare il sistema e l'architettura dell'autonomia locale per dieci anni nel nostro territorio. Quindi la decisione è importante proprio perché secondo la legge per dieci anni poi restiamo così e quindi se scegliamo bene, bene, se scegliamo male purtroppo ce lo dobbiamo tenere questa nostra scelta anche per le amministrazioni e le generazioni future. Partiamo con alcune slide che danno un'opportunità di capire cos'è questa legge in particolare. Riforma degli enti locali. Quali sono le finalità principali? Le finalità della legge sono ottenere specializzazioni migliori, più accurate, elevate, efficienza ed efficacia, qualità dei servizi migliori, soddisfazione di conseguenza anche di chi i servizi lo utilizza, quindi i cittadini, condivisione di scelte di aree un po' più vaste di quelle che sono gli ambiti territoriali del Comune, quindi politiche di area vasta e dico in ultimo anche cercare di contemperare il miglioramento del servizio che vorremmo andare ad attuare, in particolare per i Comuni che meno sono adeguati come dimensioni, rispetto anche a un risparmio di gestione che può compensare con economia di scala i miglioramenti nei servizi che dovremmo riuscire a ottenere. Però si parte da un uti, un uti che è un ente, quindi dobbiamo costituire un ente nuovo. In provincia di Pordenone tra l'altro gli enti da costituire, secondo la delibera di giunta regionale sono 5, 5 nuovi enti. Quindi noi lo studio che abbiamo predisposto dimensiona l'area di staff, quelli che sono i servizi di base per costituire un ente, sulla base della densità demografica delle uti. Secondo le proposte che facciamo, parte dei costi potrebbero essere assorbiti anche dalle economie di scala sui servizi gestiti, però avremo degli abbattimenti dei costi anche se riuscissimo a trovare delle convenzioni con enti che già esistono e già queste funzioni le svolgono. In particolare, tra virgolette, metto la provincia. Vediamo invece i costi. Noi abbiamo pensato che per costituire un nuovo ente abbiamo bisogno di alcune figure e sono figure essenziali indipendentemente dal fatto che l'ente poi svolga delle funzioni che vengono delegate dai comuni. Perché ci serve un direttore? Perché serve una segreteria che convochi e che tenga gli atti amministrativi e le decisioni che questo ente prenda. Serve un protocollo che riceva la documentazione, che sia in grado di ricevere e di spedire. Serve una ragioneria perché un ente nuovo deve avere un proprio bilancio. Allora, con alcune spese ovviamente anche di funzionamento di locali, semplice riscaldamento oppure le spese di spedizione, tutti questi costi messi insieme in un UTI che è quella che abbiamo previsto noi, 5 comuni, 96.000 residenti, prevede almeno 6 persone. Quindi 6 persone senza che comincino a essere delegate le funzioni. Qualcuno dice, beh, ma queste persone potete recuperarle col personale che già avete. Quindi di fatto questo non dovrebbe essere un costo perché se le togliete da una parte e le mettete dall'altra, di fatto questo è un costo zero, è un travaso. Però è vero che se noi dovessimo formare un nuovo ufficio di protocollo da qualche parte, il nostro protocollo deve continuare a funzionare. È vero che se formiamo un'altra segreteria, la nostra segreteria deve continuare a funzionare. E vi ricordo, lo vedrete quando presenteremo tra poco il bilancio, la riduzione del personale nel Comune di Pordenone è stata dell'ordine del 10%, con una riduzione delle spese dell'11 e qualcosa. Quindi di fatto noi già oggi pensare di dover togliere... Prego. Sì. Sì, sì, la stessa documentazione che vi abbiamo mandato. C'è qualcosa di diverso? Ah no, 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 perché compaiono a pezzi. Non preoccupatevi, compaiono a pezzi. No, no. Dai, fagliele vedere tutte il Martino così. Eh? E così sono complete, va bene? No, 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 è uguale. La documentazione è la stessa che avete voi. Allora, vi dicevo, solo per il Comune di Pordenone, la razionalizzazione che abbiamo fatto negli uffici come quello del protocollo, che tra l'altro quest'anno subisce anche, subisce, giustamente, ci sono due pensionamenti che è già lì, riusciamo a recuperare il personale dall'altra parte per superire questa mancanza senza andare a nuove assunzioni. O nell'ufficio di segreteria, dove abbiamo fatto una razionalizzazione totale, proprio semplificando anche quelle che sono le competenze, proprio per venire incontro a una riduzione di personale. Vedete come il Comune di Pordenone, che ha tanti dipendenti, oggi sarebbe anche in difficoltà a dare del personale per costituire questo nuovo ente per queste mansioni. Quindi, semplicemente sei nuove persone, il costo totale per l'intera uti dei cinque comuni sarebbe di 357 mila euro e credo che siamo stati anche abbastanza prudenti. Abbiamo provato a dividere questo investimento iniziale a tutti i comuni che fanno parte di quest'ambito, secondo un criterio che è quello della popolazione. Abbiamo scelto il criterio più semplice. I residenti di Pordenone 51.600, il 53% quindi delle spese va attribuito al Comune di Pordenone su 357 mila euro sono 192 mila euro, solo il costo per l'attivazione di questi servizi. Ovviamente ci sono i servizi anche che vengono ripartiti, i costi che vengono ripartiti per gli altri enti. Porcia 57 mila, Pordenone 68 mila, Sanquirino che è più piccolo ovviamente 16 mila, Roveredo 22 mila. Abbiamo provato a immaginare a questo punto se noi riuscissimo costituire un ente più grande, un ente che avesse più comuni che partecipassero a questo investimento iniziale. E l'abbiamo ipotizzato di 50 comuni. Abbiamo fatto questa prova per vedere cosa significherebbe. Ovviamente il numero di persone salirebbe, non sarebbero più 6 ma sarebbero 9 e la ripartizione ovviamente sarebbe sui 50 comuni. Ecco che la ripartizione a favore di ciascun comune diminuirebbe di molto. Quindi questo step iniziale di costo nel caso di 50 comuni a Pordenone costerebbe il 57% in meno, così come per gli altri comuni. Quindi Pordenone passa da 192 a 83, gli altri comuni tipo Cordenone passano da 68 a 29. approfittando del nostro controllo di gestione che è in grado di fare queste proiezioni l'abbiamo fatto anche per le altre UTI. Le altre UTI ad esempio l'UTI più con minor residenti e l'UTI di San Vito, 41 mila residenti. E' chiaro meno residenti ci sono, anche se abbiamo diminuito i dipendenti, ne abbiamo messi solo 4 prudentemente, però ovviamente il costo dell'impatto dell'investimento iniziale non sarebbe più di 357 ma di 258, ma la ripartizione ovviamente per numero di abitanti sarebbe molto gravosa anche per San Vito perché avendo meno abitanti sarebbe 94 mila, San Martino che è il comune più piccolo sarebbe 9 mila. Vedete che in questo caso il mettere insieme invece questi costi di step iniziali producono un risparmio per quelle UTI che sono più piccole in termini di abitanti molto maggiore. Il risparmio in un UTI più grande di 50 per quei comuni otterrebbe un abbattimento del 74%. Questo tipo di simulazione l'abbiamo fatto per tutte le 5 UTI che ci sono. Quindi l'abbiamo fatta per l'UTI di Spilimbergo, l'UTI di Azzano X, quella di Sacile. Però a questo punto ci siamo resi conto che in particolare i comuni montani stavano lavorando su un'ipotesi diversa, stavano lavorando su un'ipotesi che prevedeva un UTI sì che avesse questo tipo di caratteristiche iniziali ma usando un service già presente. In questo caso il service già presente era costituito dalla comunità montana. La comunità montana ha 20 dipendenti, ha un ufficio protocollo, ha un ufficio di ragioneria, ha un ufficio di segreteria e di conseguenza per quei comuni immaginando la comunità montana come un ente che comunque va soppresso ma che comunque esiste con 20 dipendenti loro avevano immaginato che questo step iniziale non ce l'avevano. Allora ovviamente anche noi abbiamo cominciato a ragionare ma qual è l'ente che andrà in soppressione nel tempo in provincia di Pordenone? Proprio l'ente provincia. E allora ci siamo chiesti ma ci potrebbe essere un ente che ha una struttura organizzativa abbastanza complessa in grado di sopportare in questa prima fase quelli che sono gli elementi iniziali di investimento per questi servizi che sono quelli banali diciamo del controllo di gestione, della ragioneria, del protocollo e forse quella del direttore non l'abbiamo esclusa. Mettiamo che il direttore non lo consideriamo. Abbiamo chiesto proprio se questa ipotesi fosse praticabile e pensiamo che abbia una praticabilità proprio perché stiamo ragionando con un ente di secondo livello, stiamo ragionando con un ente che ha una governance che appartiene ai comuni attraverso un'articolazione dei consigli comunali, dei consiglieri comunali, dei sindaci che di fatto compongono il consiglio ma attraverso anche un'assemblea di sindaci che è già costituita e precostituita. Per la provincia convocare l'assemblea dei sindaci perluti o convocare l'assemblea dei sindaci per la provincia prevede lo stesso iter, la stessa procedura e di conseguenza noi avremo già a di fatto la possibilità di evitare di fare questo investimento iniziale molto elevato. Vi ricordo che se la finalità della norma sono quelle di risparmiare è chiaro che dopo mettendo insieme gli altri servizi in delega noi otterremo delle economie di scala ma più l'investimento iniziale è alto più dobbiamo risparmiare dopo per andare sotto quello che è il break even, la parità tra i costi di prima e di dopo e di conseguenza crediamo che un service con una convenzione con la provincia ci potrebbe facilitare molto quelle che sono gli obiettivi della legge di ottenere delle economie di scala e dei risparmi nell'erogazione dei servizi modulando questi risparmi ovviamente con i miglioramenti di efficienza e miglioramenti anche di qualità dei servizi che sicuramente Pordenone che è un comune che ha un'adeguatezza importante può mantenere ma per i comuni più piccoli è chiaro che il livello di adeguatezza anche dei servizi forniti migliorerebbe molto. Allora compensando questa solidarietà di territorio con questo risparmio di spesa noi riusciremo ad avere una garanzia di servizi erogati in tutto il territorio con maggiore efficienza e con un costo comunque contenuto. Andiamo adesso però nel concreto perché una volta che si è costituito l'ente bisogna cominciare a farlo funzionare e bisogna cominciare a delegare le funzioni che i comuni delegeranno a questo ente. E vediamo quali sono le funzioni in particolare previste nell'articolo 26,1 che sono funzioni che noi dobbiamo delegare per legge alla Unione Territoriale Intercomunale. Le funzioni sono il personale, i servizi sociali, la polizia locale e lo sportello unico. Ci sono anche altre competenze previste nell'articolo 25,1 che sono i servizi informative, l'anticorruzione e la trasparenza che sono adempimenti che ogni comune dovrebbe fare. Poi abbiamo altre competenze sulle quali ci sono sei ulteriori competenze noi dobbiamo scegliere dal primo gennaio 2016 ne dobbiamo scegliere almeno tre. Allora io ho previsto che ovviamente è ipotizzato, ho fatto l'ipotesi più, meno diciamo, meno difficile da attuare che è quella dal primo gennaio di cedere le competenze che riguardano la statistica, la protezione civile e i progetti europei. Ricordo che dal primo gennaio 2017 invece altre competenze devono essere delegate e sono le delizie scolastiche, i servizi pubblici, la raccolta dei rifiuti e la relativa esazione dei tributi. Vediamo invece le funzioni che l'unione esercita, che rimangono in capo i comuni ma che vengono esercitate non per il tramite dei dipendenti comunali propri ma vengono esercitate per il tramite dell'unione. L'articolo 27,1 dice che la centrale unica di commettenza è una competenza che rimane ai comuni ma viene esercitata dall'unione, così come le finanze e i tributi, così come il controllo di gestione e la pianificazione del territorio. Ci sono altre competenze che vengono esercitate dall'unione per conto dei comuni dal primo gennaio 2016 e dal primo gennaio 2017. E anche qua per facilità noi abbiamo scelto sempre le più semplici da conferire come competenze e non le più complesse. In particolare dal primo gennaio 2016 abbiamo previsto gli espropri e l'energia e dal 2017 le opere pubbliche e l'edilizia privata. Perché riteniamo che un'unione dei comuni unica possa anche mantenere quello che è un controllo degli attuali amministratori sulla governance per le proprie comunità? Perché potremmo esercitare queste funzioni attraverso una modalità che è prevista dalla legge e si chiamano subambiti. Subambiti significa che noi possiamo avere una competenza che viene delegata o gestita direttamente dall'unione ma ci sono delle competenze che possono essere esercitate poi sul territorio a seconda della loro complessità. Allora io non immagino che ci possano essere degli uffici decentrati che esercitano la competenza dello sportello unico perché vi ricordo già noi lo facciamo semplicemente con un portale telematico non c'è distanza che tenga perché lo si può fare da Pordenone, da Torre o da Spilimbergo con le stesse modalità e se vedete anche i risultati che abbiamo recentemente presentato sui tempi di ritorno per quel che riguarda le autorizzazioni sia di natura commerciale sia di natura edilizia per quel che riguarda le imprese, le attività e vedete che i nostri tempi sono stati molto ridotti attraverso l'utilizzo di questo portale e attraverso l'utilizzo dello sportello unico inteso come programma anche funzionale a dare delle risposte precise e nei tempi utili. certo che però ci sono competenze che invece diversamente è difficile mantenere in capo solo ad un ente centrale e faccio un esempio per tutti quello della centrale unica di committenza le gare si fanno in tutto il territorio comunale è giusto che ci sia la centrale unica di committenza che vada incontro ai comuni che hanno bisogno di sostenere delle gare d'appalto piuttosto che tutto venga conferito a una sede centrale e non ci sia poi il controllo sull'attività e soprattutto la responsabilità di chi poi deve portare avanti le decisioni di una gara di una commissione che devono essere poi attuate dal territorio dal comune stesso e quindi abbiamo previsto con questo organigramma molto semplice banale che ci possono essere articolazioni diverse poi parlando di competenza per competenza riusciremo anche a far capire cosa significa tutto questo partiamo con la prima una prima competenza il personale come immaginiamo il personale gestito dalle uti rispetto e magari da un'unica uti rispetto a come viene gestito oggi oggi viene gestito da ciascun comune è vero che ci sono convenzioni i comuni più piccoli già si sono convenzionati tra di loro per ridurre un pochettino i costi ed avere la qualità del servizio malgrado il poco personale di cui dispongono ma è anche vero che si può ottenere una razionalizzazione ulteriori avere un ufficio che fa le paghe le retribuzioni che fa i concorsi che fa le mobilità che fa le pensioni che fa tutte queste competenze che sono uguali dappertutto e che non hanno bisogno di una scelta politica diciamo diversa da comune a comune sono le stesse cose che facciamo a Pordenone le facciamo anche a Andreis sono la stessa cosa allora se queste competenze possono essere raccolte il personale che non dico quello che si occupa tempo parziale ma tempo al 100% fa personale oggi nei comuni li potessimo radunare e mettere insieme in un'unica struttura organizzata io sono convinto che questa struttura è in grado di erogare questo servizio anche risparmiando delle risorse umane che potrebbero essere riqualificate e quindi ottenere quelle prime economie di scala necessarie per far funzionare questa riforma ed è chiaro allo stesso modo che se uno deve chiedere le ferie non le può chiedere all'utti centrale ma le deve chiedere a ciascun responsabile che gli deve rilasciare un'autorizzazione quindi ci sarà una struttura centrale che farà queste competenze ma ci saranno anche delle attività delegate sul territorio per mantenere l'efficienza di tutto questo perché ha bisogno di mantenere l'efficienza. Mi immagino la contrattazione decentrata ogni comune la fa un po' a modo suo avere un modello unico da esportare in 50 comuni dare un po' di assistenza ai segretari comunali che tante volte sono a scavalco in più comuni credo che sia molto utile per gli stessi segretari per gli stessi dipendenti e che semplificherebbe la vita amministrativa anche di molti comuni. Ovviamente in questo caso la spesa ripartita dovrebbe costare meno di tutte le risorse umane che attualmente si occupano di personale e quelle saranno le economie di scala. Ma vediamo una funzione invece che potrebbe essere esercitata tranquillamente come subampito. Noi oggi abbiamo cinque ambiti socioassistenziali e ce li abbiamo perché proprio la legge ha copiato diciamo nella delibera questi confini, sono delle funzioni dove i sindaci già lavorano insieme, già lavorano bene e perché non fare gli ambiti, le nuove uti su questi ambiti socioassistenziali. Ma la nostra idea non va a ridurre queste competenze se queste competenze funzionano e funzionano bene perché attraverso i subambiti, oggi per esempio il bilancio dell'ambito di Pordenone che comprende i comuni di Porcia, di Cordenons, di Roveredo, di San Quirino lo fa il comune di Pordenone. E se lo facesse Lutti cosa cambia? Non cambia assolutamente niente quindi non porteremo via niente a questa organizzazione che è già collaudata, che già funziona sul territorio quindi non ci sarebbe bisogno di costituire un ambito socioassistenziale che avesse tutti i confini dell'ambito provinciale. Potremmo lasciare i cinque ambiti che ci sono, che funzionano bene che funzionano tra l'altro con una testa a un voto. Cosa significa una testa a un voto? È chiaro che la governance dell'Uti è determinata dalla legge che determina anche dei pesi pondelari ai sindaci in funzione del numero di residenti. Gli ambiti funzionano invece in maniera diversa ogni sindaco conta per uno. Però in questo caso i sindaci hanno dimostrato di essere in grado di farli funzionare gli ambiti anche con questo voto ponderale, anche con questa democrazia un po' anomala e quindi perché non lasciarle così com'è? Quali sarebbero i vantaggi? Che potremmo avere un coordinamento unico potremmo tentare delle sperimentazioni che non potessero essere utilizzate sui cinque ambiti ma potrebbero essere diversificate sui cinque ambiti per vederne l'effetto, messe in comune le conoscenze e le risultanze di queste sperimentazioni. Queste sarebbero economie che produrrebbero ottimi risultati senza toccare un'organizzazione che già esiste e che già funziona. La polizia locale. La polizia locale è una delle competenze che va all'Uti. Lì abbiamo immaginato ma c'è già un'organizzazione che lavora sul territorio come pubblica sicurezza ed è l'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri funziona così. C'è un comando provinciale e ci sono le stazioni sul territorio. Perché non riprodurla con un corpo, quello della polizia municipale, che sarebbe in grado anche di mantenere sul territorio quelle aster, così si chiamano, che hanno dimostrato di lavorare bene insieme e quindi diventerebbero le stazioni sul territorio di un comando di una direzione unica provinciale, di un coordinamento unico provinciale. Risolvendo tanti problemi anche di specializzazione perché voi sapete che le competenze della polizia sono molto varie e non c'è oggi, forse Pordenone riesce a specializzare qualcuno ma sicuramente i comuni che hanno risorse di cinque persone non riescono a specializzare un vigile che faccia la polizia edilizia e basta. E quindi ogni volta quel dipendente è costretto fra le mille competenze che ha, a studiarsi anche la materia e quindi avere dei tempi di ritorno nella propria istruttoria molto più elevati di chi li fa tutti i giorni, li fa in maniera ripetuta. Lo dicevo parlando anche col consigliere Perone che lui ha un po' di esperienza anche di carabinieri. Ho pensato anche questa cosa qua. Mi dice guarda che non è molto praticabile. Molto spesso è successo in passato che ci siano dei conflitti di competenze con i comandanti. Comandanti e sindaci possono essere anche qualche volta in contraposizione. Uno deve denunciare l'altro perché è il suo lavoro. E poi queste due persone, queste due figure non si spostano né una né l'altra perché non si può spostare un sindaco e non si può spostare un comandante. Con questa organizzazione si riuscirebbe a fare anche questo, a evitare questo conflitto di interesse, a mantenere questa capacità di lavorare insieme perché i conflitti di interesse verrebbero in qualche maniera spostati. Quindi nessuno perde niente invece che operare in una parte del territorio né opera in un'altra mantenendo le proprie competenze tranquillamente. Mi rivolgo al consigliere Pedicine. Avevo pensato di mettere dentro anche come sinergia utile quelle che sono le competenze della provincia per la polizia itico-venatoria. Mi pare che siano circa 20 dipendenti. Poteva essere anche un'idea per una sinergia ulteriore tra quelle che ci sono. Lo sportello unico non ha bisogno di subambiti. Lo sportello unico ha bisogno di un ufficio efficiente che lavori con un portale e che determini i tempi di risposta certi per le aziende. Questo è quello che ci chiede l'imprenditore e quello che dobbiamo garantire. Dobbiamo garantirlo da Andrei Sappordenone nella stessa misura, possibilmente. Il nostro potrebbe essere un esempio che si mette a disposizione della nuova UTI a dato dimostrazione di efficienza. Se ce ne sono dei migliori, per carità, non è che vogliamo averli in primatur, però potrebbe essere già un bel punto di partenza. Sui sistemi informativi credo che non ci sia neanche tanto da discutere. È chiaro che avere dei sistemi informativi che hanno una valenza provinciale significa risparmiare molto, risparmiare in costi di programmi, risparmiare in gestione, risparmiare in tantissime cose che oggi ognuno fa per sé. Vi dicevo anche sulla difficoltà e sul pregiudizio che potrebbero avere le amministrazioni di dire che perdiamo il controllo di qualcosa, non possiamo più decidere sulla nostra comunità. Mi rivolgo appiccinato che lui è molto sensibile a queste cose. Ma che sensibilità portiamo via sulla statistica? Non credo che ci siano decisioni di politica che riguardano la statistica. La protezione civile già lavora in distretti. Li potremmo anche mantenere. La protezione civile è organizzata in distretti sul territorio. Perché non mantenerli come subambiti? Anche questa è una soluzione che non porta via quello che già c'è di buono. Così come i progetti europei. Oltre al Pordenone chi li fa? Chi ha un ufficio strutturato per fare progetti europei? È un service che sarebbe, credo, molto gradito a tutti i comuni. E quindi è un'opzione in più per fare in maniera che anche quei comuni che fino ad oggi non avevano questo tipo di servizio lo possono avere, lo possono esercitare. Ho aggiunto avvocatura perché è uno dei temi che ci vengono richiesti spesso dalle amministrazioni medie e piccole perché nessuno ha un avvocato a disposizione. Ho aggiunto farmacie, quelle farmacie che vengono gestite in economia da parte dei comuni che ce l'hanno e che magari mettendo insieme questo tipo di servizio potrebbero semplicemente comprare i farmaci insieme. Immaginate il risparmio che si ottiene, insomma. Lo fanno i privati. I privati a Pordenone si mettono insieme per comprare i farmaci. Le farmacie pubbliche no? Perché no? Vediamo adesso le funzioni che vengono svolte dai comuni su indirizzo politico dei comuni stessi. La centrale unica di committenza, ecco, questa bisogna gestirla con un'articolazione decentrata. La finanza locale, ovviamente. Il controllo di gestione, questa potrebbe tranquillamente essere gestita. Oggi il nostro controllo di gestione si occupa di 24 enti. 24 enti che sono anche nel Veneto, tra l'altro. Quindi, arrivare da 24 a 50, mettendo dentro gli altri comuni che ci mancano nella provincia di Pordenone, credo che sia un'operazione molto semplice, che anche qua può dare qualità maggiori e risparmi per economie di scala. Le funzioni da attivare dal 1 gennaio 2016. Da sempre, credo. Io mi ricordo, io lavoro in un comune dal 1983, quindi un po' di esperienza. Da sempre abbiamo chiesto alla provincia, scusa, ogni volta che dobbiamo fare un'opera pubblica, dovremmo andare a ristudiarci la materia degli espropri. Facci un ufficio che funziona per tutti. Fallo tu e metterlo a disposizione di tutti gli enti. Ognuno che ha un'opera pubblica che provvede uno spropri viene da te, ti paga il servizio e lo facciamo. Cosa? È un'occasione persa. Adesso lo possiamo recuperare. Un servizio espropri che noi abbiamo lo possiamo mettere a disposizione tranquillamente dell'intero territorio. Non tutte le opere pubbliche hanno bisogno di espropri e quindi non serve anche una struttura molto grande, ma è una struttura che avrebbe una competenza, una specializzazione dentro di sé, in grado di semplificare le procedure per i comuni che ne hanno bisogno di questi espropri. O l'energia. Noi stiamo facendo un piano energetico per il comune di Pordenone, ma quanti comuni stanno facendo un piano energetico? Quante competenze lì potremmo mettere a disposizione del territorio? Quindi, rispetto alla legge, noi tenderemo a ottenere gli obiettivi che la legge si prefigge. Vorremmo rafforzarli questi obiettivi, con economie di scala più grandi che producono maggiori risultati, senza un gravoso investimento iniziale, perché vi dicevo prima, più alta è la sticella iniziale, più difficile poi risparmiare. Abbiamo parlato prima del sistema dell'anticorruzione e della trasparenza. Noi lo facciamo in maniera articolata, precisa, trasmettiamo la documentazione alle authority. Gli altri comuni stanno lavorando con delle spade di Damocle sopra la testa, perché il personale non è in grado di fare tutte queste competenze. L'aggravio di competenze sugli enti locali è stato notevole in questi anni, tanto più che i comuni più piccoli sono in grave difficoltà. Noi gli diamo una mano e quindi sicurezza sia per i dipendenti sia per gli amministratori, perché basta che arrivi la denuncia, per quanto anonima, poi ci sono le conseguenze. E avremo l'opportunità, con un'ultima unica, anche di graduare quelle che sono le competenze e quelle che sono le decisioni, tentando di adattarle il più possibile al territorio e alle vere peculiarità del territorio. Io sto immaginando che, se ci fosse un'ultima unica Pordenone, non dovremmo dimenticarci che c'è una comunità montana e dovremmo riconoscere a quella comunità, ex comunità montana, e dovremmo riconoscere a quella struttura competenze vere, ad esempio. Non credo che sia necessario che il turismo come attività la esplichiamo in Pordenone-Capoluogo. Forse è più necessario esplicarla in un territorio che lo vive in maniera diversa, con grandi difficoltà, ma che la pianura deve incentivare, deve aiutare in maniera solidale perché possa essere utile di ritorno nei risultati che la montagna può ottenere. ... deciso, prospettato, quello che è. Sì, in tutte quelle che sono le varie forme, le possibilità, insomma, immagini che io sia completamente ignorante sulla materia, cerchi un attimo di far capire bene la situazione. Grazie. Allora, io le ho fatto l'esempio esclusivamente degli abiti socioassistenziali. Potrebbe essere una concessione che i comuni più grandi fanno quelli più piccoli, ma il sistema di voto è determinato dalla norma. Già quella dice come funzionano le UTI. E noi, che ci piaccia o non ci piaccia la norma, ripeto, vorremmo discutere sul come si può applicare. Il sistema di governance è dato dalla legge. Noi non abbiamo l'ambizione di modificare un sistema di governance determinato da una legge. Avremo semplicemente l'ambizione di suggerire una proposta che ci permette di attuare questa legge in maniera più semplice. Quindi non c'è una proposta sul sistema di voto, salvo quello che è contenuto nella legge e quell'ipotesi che le ho fatto io, che è tutta da sondare, sulla testa un voto per gli ambiti socioassistenziali. Voleva sapere come funziona il voto ponderale? Anche, comunque, quindi in sostanza rimarrebbe il voto ponderale previsto dalla legge. E qui invece viene proposto un voto pro capite. Solo su quella competenza, ambiti socioassistenziali, se i sindaci si mettono d'accordo fra di loro e dicono siccome funzionava bene, manteniamo quello che funziona bene, e siccome quello che funzionava bene funzionava una testa un voto, manteniamo una testa un voto. Io credo che sia un atteggiamento di apertura nei confronti di chi pensa che i comuni più grandi debbano mangiare quelli piccoli. Grazie. Consiglio Ribetti. Sempre chiarimenti? Volevo chiedere all'assessore se poteva spiegarmi un attimino meglio, perché ho sentito che nel corso del suo intervento ha fatto parecchi riferimenti a possibilità di convenzioni con la provincia, non so, una delle prime pagine del slide, abbattimento dei costi dell'area di staff, anche nel caso di convenzionamento di alcuni servizi con la provincia. Ecco, una prima domanda, volevo cercare di capire, quali sono, cioè, in che modo fare queste convenzioni, cioè, un qualche esempio pratico di convenzioni si può fare in un'ottica, in una prospettiva di chiusura della provincia, perché mi sembra che là dobbiamo andare. Poi, finisco le domande? Finisco? No, mi faccio. Poi, ecco, volevo capire, per quanto riguarda la polizia locale, qual era l'idea che almeno lei aveva in mente, perché francamente, da quello che ha detto, facendo riferimento a un'organizzazione simile all'arma dei Carabinieri, cioè un comanda provinciale con tante articolazioni sul territorio, a mio modo di vedere, insomma, si rischerebbe forse un minor controllo del territorio rispetto che l'ufficio di polizia locale, sì, otteniamo un risparmio di costi, ma è stato fatto uno studio, c'è un'idea che ciò garantisca lo stesso controllo del territorio, o rischiamo magari di dover fare la turnazione e in carenza di risorse umane rischiamo di avere zone del territorio che non vengono coperte. Poi, per quanto riguarda lo sportello unico, per capire, ecco lei prima faceva riferimenti ai progetti europei, aveva lanciato l'idea di una vocatura, farmacie, perché, cioè l'idea era un po' quello dello sportello unico che avevamo fatto anche noi in convenzione, mi sembra, con qualche altro, con Roveredo, quindi come gestire l'inizio attività, chiusura attività, l'idea sarebbe quella, giusto? Ecco, e allora, faccio altre due domande di chiusura che forse hanno più un significato politico, volevo da voi capire politicamente. La prima, quali sono le differenze pratiche, che veramente non lo capisco, può sembrare provocatoria come domanda, però per la parte provocatoria lo farò nella parte discorsiva dell'intervento. Cioè, tutte queste idee, risparmio di costi, eccetera, c'è qualcosa che impediva di attuarle con la provincia? No, questa è la parte politica, ma ripeto, può sembrare provocatoria, ma me lo spieghi perché io veramente non riesco a capire. E la seconda cosa, e chiudo veramente, l'obiettivo, io leggo l'ultima slide, la 21, dove si dice che quello che capisco io è quello che pensa l'amministrazione di questa delibera. Ci dite, economie di scala che producono effettivamente risparmi senza partire con un gravoso investimento iniziale, mi verrebbe da capire che volete l'Uti unica. Poi dite, sicurezza nell'operazione, vabbè, una cosa neutra, poi dite, rispetto all'autonomia decisionale di ciascuna comunità. E mi verrebbe più da capire che magari questa amministrazione è più dalla parte delle 5 Uti. Allora, se potete farmi capire esattamente che cosa vorrebbe questa amministrazione, in modo che possiamo poi esprimersi nel dibattito. Grazie. Allora, consigliere Ribetti, io non so come gli altri consigli comunali esercitiranno questo diritto previsto all'articolo 4 della legge. Non lo so. So che noi abbiamo fatto uno sforzo, non con la pretesa di essere dei tuttologi e di darvi la verità, semplicemente per farvi capire, per cercare di condividere quali sono le problematiche nel costituire 5 Uti, 3 Uti, 1 Uti. Perché questo ci chiede la regione, no? Cosa volete fare? E noi dobbiamo dirgli cosa ci è più semplice, cosa ci è più utile. Per fare questo serve un po' di consapevolezza. Io capisco, insomma, io sono dall'83 che lavoro in un comune, sono di 9 anni che faccio l'assessore, mi sono occupato di quasi tutti i servizi, un po' conosco, insomma, l'ambiente, no? E capisco che magari non tutti i consiglieri comunali possono sapere come funzionano praticamente i servizi. Non ci siamo posti obiettivi politici, ma molto pratici. Ci siamo detti, semplicemente, che rispetto alle 5 Uti, che se tocca si fanno, ci sono delle soluzioni che danno delle opportunità migliori, secondo me, secondo alcuni di noi, ma se c'è un'idea diversa e se c'è un'idea migliore, perché non attuarla? Allora, se voi avete qualcosa da proporre, saremo anche disponibili ad ascoltarla, no? So che non è facile da chi non ha operato all'interno, però magari riporta qualcosa. Allora, convenzioni con le province, le convenzioni si fanno adesso, già adesso fra i comuni, noi abbiamo una convenzione con il comune di Roveredo per la polizia locale. Le convenzioni, tra le Uti anche, si potranno fare domani, no? Non si possono fare le convenzioni di Pordenone con il comune di un Uti diversa da quella di Pordenone. Questo la Degge lo impedisce. Però le convenzioni sono praticabili. Io non è che so che la provincia sicuramente farà le convenzioni, io so che ci sono le condizioni per provarci, per chiedere alla provincia dateci questa mano e so che in provincia i sindaci sono in grado di essere sensibili a questo tipo di collaborazione. Proprio perché c'è le zone di secondo livello e quindi quando prima si parlava della polizia e io parlavo delle Aster, parlavo proprio di questo, nel territorio ci sono organizzazioni di comuni che già lavorano insieme come Aster. C'è l'Aster del Sile dove ci sono tutta una serie di comuni che lavorano insieme. Se una cosa funziona e funziona bene perché non lasciarla? È meglio andare a cambiare una cosa che non funziona. Allora sicuramente ci sono nell'ambito del territorio dei 50 comuni con l'unione dei due adesso sono 50 comuni sono delle cose che si possono lasciare perché funzionano bene e delle cose che l'Uti ci consente di migliorare. Ma se un Uti grande ci consente un grande miglioramento se un Uti piccola ci consente un piccolo miglioramento. Qualche sindaco dice sì ma dopo in 50 siamo troppi no? Come facciamo a decidere in 50? Certo da soli si decide meglio ma da soli il risultato che si ottiene è così insieme il risultato che si ottiene è molto più grande. Questo cerchiamo di far capire no? Perché lo sforzo è maggiore ma anche il risultato poi sarà maggiore. Allora noi non abbiamo la pretesa di aver studiato il modello ideale noi abbiamo la pretesa di rispettare Basta No Spero di essere Eh Abbiamo un mestiere A quale? Ah sì le competenze della provincia Allora che la provincia qualcuno decida decida qua o a livello nazionale di farne a meno perché si intende a semplificare il sistema dei livelli istituzionali italiani è una cosa sulla quale il Comune e il Consiglio Comune di Pordenone potrà fare ben poco ritengo ben poco io credo che la decisione sia stata quella di avere un rapporto diretto fra il Comune e la Regione un rapporto diretto che è esercitato attraverso i 215 Comuni ha una valenza sicuramente limitata perché significa che c'è una Regione forte e dei Comuni deboli e le capacità propositive dei Comuni saranno sempre deboli se invece c'è un'organizzazione dei Comuni che si mette insieme è in grado di essere contraltare vero e anche propositivo dal punto di vista progettuale con un ente così grande come la Regione io sono preoccupato del fatto che per esempio le competenze dell'Ufficio del Lavoro tornino in Regione perché lì una volta non andavano bene abbiamo visto che in provincia funzionano bene io credo che un UTI grande possa anche rivendicare questa competenza le UTI piccole no e credo che da un UTI grande si possano possano essere il punto di pertenza per difendere il territorio in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo difeso fino ad oggi Grazie Consiglio Giannelli Prego Assessore una domanda strutturale semplice semplice secca secca lei prima ha detto che starete all'interno di quanto prevede la legge lei è sicuro che il primo punto della delibera sia conforme alla legge perché lei chiede di cambiare la legge no 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 la legge organizza 5 UTI per la provincia sì sì Assessore io la lei mi risponda il primo punto della delibera è conforme alla legge punto di domanda la legge non ha definito gli ambiti la delibera di giunta regionale ha definito gli ambiti di conseguenza per me questa delibera il primo punto sta dentro la legge risposta consigliere dal mass prego sì probabilmente ha ragione probabilmente ha ragione però c'è un punto che mi pare così leggendo l'articolo 4 comma 2 della legge 26 sia assolutamente chiaro nel definire quali sono i presupposti attraverso i quali si può dare indicazioni diverse dall'indicazione di piano adottata con la delibera del 4 febbraio ragion per cui siamo qui oggi a discutere senza passare magari trattandosi di una delibera di una certa importanza non banale anche per i risvolti politici che avrà ma di questo parleremo dopo sì sono abbastanza dubbio perché cioè dubbia la cosa la norma della lettera A e B e quindi su questo insomma lei lo sa no quindi la domanda di Giannelli era questa sostanzialmente lei dice sono tranquillo procedo benissimo no no vabbè ma Spirinbergo Spirinbergo un altro sì sì vabbè ma l'interprezione ma la norma è chiarissima cioè non lascia spazi dice posso modificare nella ipotesi A e B l'ipotesi A è per aderire ad una unione con termine confinante diversa da quella indicata dal progetto di piano dell'assessore della giunta regionale e l'ipotesi B è se io che posso far parte che posso scegliere a quale posso stare nelle uti sopra i 5.000 abitanti devo essere in grado di dimostrare che a fronte di una decurtazione del 30% dei trasferimenti ordinari suppongo della regione perché anche questo è un po' dubbio sono in grado di far funzionare il comune secondo tutte le funzioni di cui è l'articolo 26 della legge che lei in qualche modo prima ha esplicitato le faccio una domanda faccio una domanda assolutamente stupida ma mi risponderà il presidente del consiglio su questo perché riguarda diciamo il regolamento e noto che il nostro fantomatico legislatore regionale dice che la determinazione di cui ho il comma 4 che sarebbe la ragione per cui stiamo qui oggi cioè una proposta di delibera che va a modificare la previsione dei 17 ambiti delle 17 uti della regione e 5 della provincia di Polovenone sono assunte dai consigli comunali con delibera motivata adottata maggioranza assoluta quindi questa voi la considerate una normale delibera o la considerate una normale delibera o maggioranza assoluta è una maggioranza che il legislatore regionale vuole un po' rafforzata evidentemente nel momento in cui scrive maggioranza assoluta l'uso dell'aggettivazione non servirebbe normalmente vi dice adottato dal rispettivo consiglio comunale una delibera normalmente si adotta maggioranza ecco vi siete posti in questa questione una questione banale insomma cioè 21 o i presenti questo chiedo anche secondo me è così ma volevo solo siccome non ho fatto parte ha capito? sì intendete 21 quindi voglio dire però siccome siccome non siete passati la conferenza di capigruppo ha deciso per ragioni di tempo di non passare come di norma dovrebbe essere attraverso la commissione non abbiamo mai discusso di questa cosa la prendiamo oggi certo però volevo leggendo la norma regionale dice maggioranza assoluta credo che la votazione di oggi dovrebbe essere maggioranza assoluta degli aventi diritto più prudente così dice anche il segretario degli assegnati cioè 21 va bene consigliere consigliere Tavella sempre per chiarimenti sì 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 vabbè allora dei chiarimenti che volevo così un attimino avere riguardano innanzitutto la questione del di eventuali risparmi che dovrebbero emergere da questa da questa ipotesi questi risparmi poi vanno a beneficio della nostra delle amministrazioni oppure magari poi visto che avete risparmiato come vi capita con tutti quei soldi che abbiamo mi pare in conto che non possiamo usare perché abbiamo siamo stati risparmiosi in passato saremmo ultimamente risparmiosi poi dopo magari non beneficiamo di questo di questa riduzione di costi perché è chiaro che l'ottimizzazione mettere insieme più persone logiche che ti porta ad avere un risparmio dopo di che la questione del personale che viene impiegato è un personale che farà parte già di queste amministrazioni è lo stesso che poi verrà eventualmente eventualmente mossa dopo una cosa così che mi mi sorge un po' particolare che a me sembra tutta questa operazione è stata smontata la provincia è stata scardinata e dopo qua viene rimessa nuovamente si poteva direttamente cambiare nome con una legge regionale ad hoc ed evitare elezioni e compagnia questa da un punto di vista politico se si passa al termine che politico non mi sento assolutamente ma secondo me è una fregnaccia bestiale questa da un punto di vista l'altro giorno quando ci siamo visti dal vescovo gliel'ho anche detto vice sindaco devo darle del lei in questo contesto anche se mi sembra ridicolo questo modo di affare da un punto di vista d'impresa da piccolo imprenditore come sono io ma è abbastanza ovvia una risposta da un punto di vista tecnico commerciale di impresa di business plan eccetera di razionalizzazione dei costi e delle risorse umane da un punto di vista politico c'è un punto interrogativo bestiale perché pur ripeto se devo giudicare politicamente o tecnicamente c'è un forte dubbio ecco poi quindi il personale dipendente verrebbe quindi sarebbero dei dipendenti a tempo indeterminato il personale che lavora nell'Uti dirigente PO tutti i soggetti a tempo indeterminato non a tempo determinato no no non lo so chiedo chiedo e la differenza è sostanziale secondo me grazie allora lei ha parlato da imprenditore anche e non le nego che ci fa piacere che tutte le categorie economiche degli imprenditori dagli industriali agli agricoltori e commercianti vedano questa soluzione come una soluzione che dà più speranze allo sviluppo del territorio loro la vedono così e credo che comunque un politico non deva distanziarsi molto dall'imprenditore l'imprenditore fa l'interesse della propria azienda il politico fa l'interesse della propria comunità quella è la nostra vocazione no se per lei questo fa bene la nostra comunità non credo che ci siano differenze destra e sinistra no se invece fa male ovviamente sarei contrario anch'io se fossi al suo opposto le competenze di cui abbiamo parlato non una di quelle competenze di cui abbiamo parlato appartengono all'attuale provincia mi dice ma questa è la provincia e la provincia ha delle competenze e le competenze che attualmente fa la provincia non sono non appartengono a tutte quelle che vengono oggi che deve oggi delegare il comune a questa nuova unità territoriale quindi uno la può vedere come vuole però io la vedrei da un solo punto di vista il sistema l'architettura che c'era prima con i comuni così piccoli da 500 residenti funziona ha bisogno di qualcosa ha bisogno di qualche cambiamento strutturale questo cambiamento strutturale è dato dalla riforma la riforma attuata con un'articolazione provinciale può dare esiti maggiori migliori alle nostre comunità può dare vantaggi migliori questa è la domanda che ci facciamo e secondo me è una cosa dove il consiglio comunale si esprime finalmente in maniera politica vera con grande serenità dicendo questa è la soluzione migliore per noi per il nostro territorio dopodiché se decidono altri pazienza riassumiamo le decisioni che vengono decise dagli altri ma una proposta abbiamo il dovere di farla e abbiamo il dovere di fare la proposta che è migliore per noi e siccome la delibera e la proposta sono aperte siamo anche in attesa di capire se si può anche emendare migliorare modificare fare meglio di quello che abbiamo proposto non abbiamo la verità in tasca stiamo affrontando una materia completamente innovativa nuova non prevedibile preventivabile semplicemente ci mettiamo tutta l'esperienza che abbiamo per cercare di fare la strada più giusta tutto qua cosa faremo dei risparmi ma ogni consiglio comunale deciderà e restano noi sì e restano noi sì e restano noi anche le maggiori spese se non siamo capaci anche le maggiori spese per quello dobbiamo tentare di fare l'articolazione che ci produce più economie perché poi i risparmi restano le nostre comunità poi uno decide se abbassare le tasse se fare servizi diversi decide lui restano noi nel bene e nel male consigliere Piccin prego grazie presidente una domanda così un po' meno tecnica rispetto a forse quelle che sono state fatte volevo chiedere allora l'approvazione della legge 26 è del 12 dicembre 2014 no successivamente la delibera di giunta regionale la 180 è del 4 febbraio 2015 nella delibera ecco bene allora pubblicata il 18 quindi significa che noi abbiamo i comuni hanno 60 giorni di tempo diceva lei per dire allora che cosa vi ha al di là di tutto quello che ci ha spiegato lei e quello che le ho detto prima fuori microfono non era una battuta ma era insomma riconoscimento in qualche modo di un certo tipo di lavoro ma che cosa vi ha mosso a proporre questa sera questo tipo cioè l'Uti unica anziché le 5 perché non sono passati secoli non abbiamo avuto possibilità come dire di testare il tutto e mi sembra altrettanto incredibile ma non entro nel dibattito lo faremo dopo quello che non si sia valutata prima questa possibilità che lei sta dicendo assessore di questo grosso risparmio che ci sarebbe rispetto alla alle 5 Uti di un Uti soltanto se può rispondere altrimenti non non mi è indispensabile per l'intervento ma assolutamente perché siamo arrivati tardi dovevamo arrivarci prima nel senso il 23 noi dovremo noi abbiamo affrontato dal punto di vista proprio pratico pragmatico quella che è la costituzione cioè l'interpretazione della legge ci abbiamo messo le mani per vedere ma come si fa domani mattina cosa si deve fare per adempire per stare per raggiungere gli obiettivi che la legge ci impone e abbiamo cominciato con i segretari proprio a a dire ma qua l'ufficio come si può organizzare lo so che siamo arrivati tardi dovevamo arrivare magari un mese prima dovevamo cominciare prima ci siamo arrivati però a proporre una delibera al 23 e ripeto come dicevo prima ringrazio il capigruppo che ci hanno dato la possibilità di portarla al 23 quindi di dare un po' di tempo anche agli altri comuni perché se decide solo Pordenone ovviamente questa volontà non può essere dall'altra parte da parte della regione accolta ma se ci fossero anche altri comuni che rispondono in questi termini che cominciano a ragionare e a capire come si può svolgere per loro non per il comune ma per il loro comune le attività di comune in uti e con quale uti se cominciano ad affrontare anche loro i problemi beh oggi gli abbiamo dato un po' di tempo a questi comuni gli abbiamo trasmesso uno studio come ha richiesto l'assemblea dei sindaci l'altro giorno in provincia e gli abbiamo gli trasmetteremo la delibera per dire noi non vogliamo prevaricare la vostra decisione vogliamo dire che abbiamo affrontato il tema e siamo arrivati fino qua forse avete un pizzico in più di consapevolezza per decidere per i vostri destini se altri comuni raccolgono questo invito del comune di Pordenone se fanno le valutazioni che abbiamo fatto noi se arrivano in un consiglio comunale a proporlo e se arrivano poi a ottenere le stesse determinazioni che proponiamo noi vediamo alla fine quali saranno le vostre io credo che forse la giunta regionale una riflessione la può fare se è solo il comune di Pordenone credo che ci dobbiamo adattare il giorno dopo a lavorare con quella che sarà l'UTI prevista e con i comuni che vorranno aderire alla nostra UTI credo che gioco forza sarà così ma portarla al 23 ha questo significato proviamo a pensarci e ad approfondire tutti quanti tutti i consigli comunali ciascuno per le proprie competenze per le proprie peculiarità abbiamo fatto come lei in modo il territorio ha eliminato cercato di comprare la relazione regionale mi dice che cosa potete fare e poi cerchiamo il credente benissimo io propongo a tutto il mondo una soluzione innovativa anzi tutto il mondo ci dice di sapere dove andremo cosa avremmo fatto di questo consiglio comunale e cosa avremmo fatto di questi importanti che non è che si avrebbe scoperto una di una regione slide da cui si va beh consigliere può fare l'intervento dopo adesso siamo ai chiarimenti se no anticipiamo tutto consigliere Piccinato sempre i chiarimenti chiarimenti grazie mi ricollego perfettamente al discorso appena fatto per chiedere se appunto ci sono indicazioni sui costi che sono stati sostenuti per la produzione dei documenti degli studi eventualmente grazie costo zero costo zero perché mi ha dato soltanto qualche consiglio qualche segretario e ce lo siamo fatti in casa dai mi piacerebbe che si parlasse invece del merito e lo so che quello che stiamo ribetti consigliere ribetti sempre chiarimenti chi è iscritto per chiarimenti consigliere pedicino bene allora non ci sono altri chiarimenti bene dichiaro allora aperta prego consigliere passare chiedo all'assessore rispetto alle ipotizzate risparmi se mi conferma credo che non ci sia nessun ostacolo dai conti che si vedono nelle previsioni addirittura un milione e centomila euro di differenza tra uti unica e 5 uti costo iniziale ovviamente sì sì no e beh però un costo iniziale mica di poco conto ecco questa è una conferma e poi quali potrebbero essere gli ostacoli per riuscire a rappresentare comunque all'interno di questo uti unica la comunità montana e i vari servizi che lei citava prima tra i quali farmacie per esempio per esempio come competenze e il lavoro direi tra i primi no quali potrebbero essere gli ostacoli gli ostacoli per avere questi servizi diciamo all'interno dell'uti unica non le nascondo consigliere che gli ostacoli ci sono perché prima di tutto le dicevo prima non dipende solo dal comune di Pordenone il comune di Pordenone coscientemente può fare la sua parte e poi saranno gli altri comuni che faranno la loro parte sempre coscientemente e rispetteremo qualsiasi coscienza e poi c'è la regione che insomma dovrebbe in qualche maniera dire beh forse c'è un'idea buona viene proposta dal basso la teniamo in considerazione non è una cosa semplice io tra l'altro credo che l'unanimità fra i 50 comuni sia sia un po' un'utopia però bisognava provarci insomma bisognava provarci grazie sessore bene bene dichiaro aperta la discussione prego per prassi non l'abbiamo mai fatto perciò chi si iscrive queste sarebbero iscrizioni per i chiarimenti non per la discussione perché io non l'ho ancora dichiarata aperta dovete iscrivervi dopo la mia apertura però insomma adesso non forniamo non l'ho mai cancellato prego consigliere ribetti no perché mi dicono vuole dichiarare aperto se dichiaro aperto dovete cancellarvi allora vi iscrivete dopo la mia dichiarazione va bene utilizziamo questa prassi bene per cortesia cancellatevi non mi cancello non ci cancelliamo consigliere Dalmas consigliere Petticini e consigliere Giannelli per cortesia cancellatevi cancellatevi perché mi hanno mosso cancellare bene adesso dichiaro aperta la discussione vi invito ad iscrivervi prego consigliere ribetti grazie grazie presidente sono riuscito ad arrivare primo anche a questa gara ce l'ho fatta ancora una volta guarda che non è detto che sia meglio no no ma io fatti guarda non è assolutamente meglio parlare per primo perché sarebbe meglio eh salve se va bene va bene no se da lì posso no sì 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 assolutamente posso andare bene assessore mi trovo un attimo in imbarazzo parlare fare un intervento questa sera mi trovo in imbarazzo perché ancora francamente non ho capito molto bene che cosa dobbiamo dire stasera cioè noi stiamo valutando qualcosa su cui non possiamo non abbiamo molto margine di manovra perché quello che dobbiamo andare questa sera a deliberare è all'interno di una cornice che c'è stata disegnata da altri e quindi noi possiamo dire all'interno di questa cornice guarda io avrei disegnato quella roba magari in cinque colori diversi anzi no lo disegno in uno solo fondamentalmente è questo di cui discutiamo stasera e l'imbarazzo che che mi trovo a cercare di tenere basso è questo è cercare di capire soprattutto in un'ipotesi di uti unica che cosa ci sia veramente di differente rispetto all'ipotesi di provincia c'è la domanda che io l'ho fatto prima che ho detto può sembrare tendenziosa ma sarà tendenziosa una parte del mio intervento era riferito a questo perché lei ha detto cose che sono francamente condivisibili sono condivisibili perché è chiaro che quando c'è un mettere assieme delle funzioni c'è da una parte un risparmio che può essere dato da quelle che sono chiamate economie di scala dall'altro c'è anche la specializzazione mi viene in mente che lei prima faceva riferimento al comune piccolo che non ha l'ufficio dedicato i bandi europei quindi di viva Dio non ci possono intervenire allora se facciamo una struttura che è dedicata a quello anche l'ufficio anche l'ufficio non so del comune non voglio mancare rispetto a nessuno magari pochi abitanti nessuno nella fascia montana può partecipare a qualche bando sono d'accordo su questo però io trovo che questo vada a scontrarsi con quello che la logica e il buonsenso perché se è una cosa noi avevamo già una struttura è un livello intermedio che era tra il comune e la regione apro un inciso adesso io lo so che magari fra 30 secondi qualcuno mi scampanella dicendo ritorna ritorna all'interno della delibera a parlare no ma io lo so guardi non la voglio mettere ma io le voglio motivare questo perché francamente io questa sera non mi sento in grado cioè io partecipo al discorso perché interessa ma qua sarebbe francamente da chiudere i libri e andarsene come ho fatto un intervento sull'ospedale sulla sanità regionale dire chi amministra chi governa la regione in questo caso prende determinate decisioni noi avevamo preso una strada abbiamo scelto di fare l'ospedale lì c'è stata cassata adesso decidete a voi pelatevi voi questa patata questa mela chiamatela come volete quindi però mi sembra giusto dire quello che penso quindi cercare di evidenziare quelle che sono le lacune le pecche di qualcosa che io vedo così magari voi lei che l'ha studiata meglio i colleghi della maggioranza che sono fermamente convinti di quello che andranno a votare potrete spiegare il mio pensiero potete capirlo ma mi spiegate che sto sbagliando quindi torno a bomba su quello che stavo dicendo per non mischiare un po' le carte se è giusto quello che lei ci viene a dire determinate cose però io ritengo che il contenitore per fare questo ci fosse già ed era l'ente provincia ente provincia tra parentesi che era anche un ente previsto dalla nostra carta costituzionale che poi non si capisce in che modo è stato cancellato e bypassato ma questi sono altri problemi perché per il momento l'unica cosa che è stata cancellata non è la provincia è stato cancellato unicamente il voto ai cittadini e qui mi vado a innestare sulla seconda parte del mio intervento perché io non percepisco da quello che lei ci ha detto stasera neanche questo risparmio di costi perché allo Stato lo sbandierato risparmio di costi non c'è io ho visto un raffronto tra i costi che ci sarebbero in ipotesi di uti unica e i costi che ci sarebbero in ipotesi di 5 uti mi correga lei se sbaglio io non ho ancora percepito una riga dei risparmi di costi che doveva portare l'abolizione delle province ma io lo so ma io lo so che sono fuori tema ma io l'ho premesso io lo so che vado fuori tema ma lei è una persona di monse ma lo so ma io lascio detto anche perché io lo so su questo poco da dire ma lo faccio salto di qualità sa dove lo faccio salto di qualità che ancora una volta quelli che l'hanno presa diciamo un po' volevo dire una brutta cosa quelli che sono stati gabbati ancora una volta sono i cittadini perché i cittadini ma no ma io lo dico guardi io lo dico proprio fuori dai denti come la penso chi è stato i gabbati sono i cittadini pordenonesi perché si trovano si trovano a vedersi soppressa una provincia che era un ente esattamente che poteva prestarsi a fare quello che voi adesso ci dite che volete fare un ente che esisteva già forse andava fatto funzionare lei è quello che ci dice la polizia locale qua io ho offerto la domanda prima non esiste già la polizia provinciale ha compiti diversi lo so ma bastava metterlo a posto non si poteva prevedere un sistema informativo uno sportello unico provinciale che facesse da raccordo quello che volete fare adesso con le UTI si poteva prevedere però non andava bene forse perché verrebbe da pensare qualcuno non aveva mai vinto le elezioni così però vabbè lasciamo stare queste sono dietrologie sono dietrologie diciamo così finalmente il centro-sinistra governa la provincia di Pordenone che però dovrà essere soppressa e quindi adesso ci propone tutte queste belle cose benissimo andranno fatte ma i risparmi dove sono se mi venite a parlare se la legge regionale quel fenomeno che abbiamo in regione ha studiato una legge che ci mette cinque UTI perché perché deve rispettare gli ambiti dei servizi alla persona e quindi va a seguire questo dove sono questi risparmi io l'unica cosa che vedo ripeto lei mi dirà che sono fuori tema è assolutamente l'abolizione dei voti dei cittadini perché tutto il resto non c'è stiamo parlando di aria fritta a mio modo di vedere poi scopriamo l'acqua no scopriamo l'acqua calda quindi io cosa vuole che le dicano nel mio intervento dico vorrei la provincia non posso dirlo ah no scusi vorrei l'UTI unica cos'è l'UTI unica è un unico organismo macro organismo di tutti i comuni 50 della provincia che non esiste più quindi del nostro come lo chiamiamo del nostro ambito territoriale della destra tagliamento come volete chiamarli facciamo quella roba lì che non si può più chiamare provincia che sembra sia un reato per fare che cosa per fare quello che poteva fare prima la provincia se si fosse fatta forse funzionare molte cose che prevedete qua ci sono già e allora cosa devo dire la risposta è chiara quindi la scelta la scelta non dobbiamo prendere a noi perché io posso dirle quello che voglio quello la scelta devono prenderla il signor l'assessore Panontini la presidentessa Serracchiani e chi può intervenire con loro ma noi che indicazioni possiamo dare assessore solo il buonsenso buonsenso che spesso che spesso manca io l'unico appello che posso fare che ci sia veramente dei risparmi di costi che non sia l'ennesima beffa per i cittadini a cui è stato solo privato il voto perché è venuto fuori l'abolizione della provincia cosa hanno abolito due o tre assessori che erano già stati ridotti da otto a sei e adesso sono diventati due quindi hanno ridotto quattro assessori consiglio provinciale praticamente c'è lo stesso quindi cosa è stato abolito però abbiamo fatto i risparmi benissimo sono contento allora facciamo cose concrete scegliete per il meglio perché è una scelta vostra ripeto io posso dare un'indicazione io posso condividere con lei sui ragioni dell'economia di scala io posso dare ragione che ci sono delle economie di scala che però si fermano si fermano anche davanti ai limiti produttivi lei prima faceva l'esempio del personale io voglio vedere se l'ufficio del nostro personale mi sembra che lei ha detto no il controllo di gestione che già gestisce 24 enti ha detto anche nel Veneto eccetera gliene mettiamo altri 50 va bene ci vorranno anche delle risorse per implementare quindi dovremmo andare ad assumere qualcuno all'interno di questa UTI quindi ecco bisogna fare un rapporto di costi benefici che saprete fare benissimo con gli uffici vedere quando è arrivata la saturazione la capacità produttiva e scatta il bisogno di un'altra risorsa quindi io posso fare un appello a quello che sia un risparmio vero un risparmio reale ma la politica che faccia veramente un passo indietro perché a mio modo di vedere una o cinque cinque o una rischia di essere una pagliacciata se non è governata dal buonsenso e concludo che lei alle 19.15 prima durante la sua spiegazione ha detto una cosa interessante ha detto perché la valenza provinciale vuol dire risparmiare ha ragione la valenza provinciale però la provincia è stata abolita se non da lei da chi la pensa come lei che ci governa grazie grazie consigliere 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 salvador prego lei era il secondo grazie prego mi deve sempre dar lei la parola allora intanto vorrei fare i complimenti all'assessore Mazzer perché ha fatto un bel lavoro si è impegnato aiutato codiuvato ma sicuramente i complimenti vanno fatti all'assessore all'amministrazione ma all'assessore che ha lavorato bene su questo progetto e devo dire che quando l'ho letto ho pensato questo è il nostro 4 luglio la dichiarazione di indipendenza 1776 perché finalmente no il 4 luglio 4 luglio abbi pazienza 1776 Filadelfia dove finalmente scusate è la presa della Bastiglia il 14 luglio ma non abbiamo preso niente possiamo fare una dichiarazione di indipendenza allora stavo dicendo che ho pensato finalmente questo territorio schiena dritta e dice chiaramente di fronte a una legge e che porterebbe a delle conseguenze che lei ha illustrato anche molto bene che non danno sicuramente un vantaggio né economico né organizzativo ma neanche di prospettiva futura per il nostro territorio propone in modo chiaro dettagliato e poi anche documentato quale sarebbe la soluzione migliore quindi chiediamo sostanzialmente con questo documento se approvato di autodeterminarci diciamo il territorio della nostra provincia noi ci abbiamo pensato riteniamo che debba essere organizzato in questo modo perché questo è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi della legge ma non certo poi della delibera conseguente che è stata quella di dividere in cinque ambiti il nostro territorio tutto bene Assessore io non entro lei ha detto se ci sono suggerimenti non ce ne sono perché l'analisi che voi fate anche la proposta è logica intelligente utile e ci porterà anche a un risparmio quindi non ho niente da aggiungere poi aggiustamenti si potranno fare nel dettaglio il problema di fondo è che come sempre il veleno sta nella coda nella delibera che voi ci proponete nel momento in cui fate un atto così importante come quello di dire questo consiglio comunale che potrebbe essere anche votato all'unanimità dall'intero consiglio forse in modo forte il capoluogo di provincia dice alla regione rivedi quella delibera di giunta perché non è confacente con l'esigenza del nostro territorio cavolaccio leggo la delibera e all'ultimo punto della delibera andate in subordinato mi va bene anche quello che fate e no se facciamo la rivoluzione la dobbiamo fare fino in fondo allora dobbiamo emendare questa delibera e dire a noi ci va bene così e basta perché ne siamo convinti non scriviamo al terzo capoverso della delibera in subordine mi sembra molto da avvocati in causa dove dicono chiedo 10 milioni ma in subordine se mi dai 5 mila euro va bene lo stesso ecco allora non è che possiamo chiedere 10 milioni e poi in subordine ci accontentiamo dai 5 mila euro perché diciamo in subordine esprime già l'assenso quindi chi vota questa delibera è già d'accordo alla delimitazione di un'unione territoriale la più abbia possibile cosa vuol dire più abbia possibile più abbia possibile no 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 vedete assessore bisogna essere ha fatto un bel lavoro non stia a rovinarselo in questo modo perché non si può essere un po' di qua un po' di là un po' su un po' giù un po' a destra un po' a sinistra forse è il momento della chiarezza dobbiamo essere chiari ha fatto una scelta abbiamo detto che è sbagliato e sono sbagliati i 5 ambiti l'ha argomentato in modo corretto non è utile per il nostro territorio io non entro nel merito della provincia più o meno l'ho già detto il consiglio provinciale siamo ben disposti a percorrere nuove strade nuove organizzazioni di questo territorio ma dobbiamo andare verso un'organizzazione che sia confacente l'esigenza del nostro territorio bene qui ci trova non ci trova nel momento in cui facciamo il gioco delle tre carte prima lo presentiamo poi lo ritiriamo poi diciamo approvate la delibera che va bene lo stesso quello che avete fatto questo non va bene dobbiamo andare fino in fondo allora dobbiamo essere chiari la rivoluzione il cambiamento parte da qui da questa sera da questo consiglio comunale diciamo alla regione avete sbagliato è stato fatto in modo frettoloso non avete fatto un'analisi corretta l'analisi corretta l'ha fatta l'amministrazione comunale di Pordenone l'assessore Marzer l'ha spiegata questa proposta che è quella delibera di giunta non di consiglio giustamente che voi avete fatto è sbagliata la dovete rivedere il comune di Pordenone fa finalmente un atto di schiena dritta e si pone anche alla guida di tutti i 51 comuni della provincia del Pordenone forse questa sera per la prima volta siamo capoluogo di questo territorio veramente e indichiamo a tutti i comuni del nostro territorio una strada da seguire non costituite le piccole uti che non servono assolutamente niente che vi creano dei problemi che andremo fra qualche anno ad accorgersi dell'euro che abbiamo fatto così tra virgolette come abbiamo fatto con le comunità montane che sono state anche quelle tanto è vero che più amministrazioni regionali poi non avevano mai il coraggio di chiuderle ma anche quelle andavano chiuse perché non aveva senso perché diventava un moltiplicatore di spesa perché diventava un fatto anche negativo da questo punto di vista però voglio dire abbiamo intrapreso una strada ci chiede di condividere un'analisi un progetto bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo bisogna togliere quel terzo punto ci fermiamo lì noi questa sera che siamo ancora prima del tempo dobbiamo dare un'indicazione chiara alla regione non così dalla doppia faccia non dobbiamo dirgli sì ci abbiamo provato abbiamo fatto la voce grossa ma poi già da stasera abbiamo accettato quello che viene no non accettiamo quello che viene il nostro 4 luglio è questa sera qui noi diciamo il terzo punto va va tolto da questa delibera allora a questo punto questa è una delibera che veramente invito l'intero consiglio comunale a votare all'unanimità e dà un segnale fortissimo alla regione ma lo diamo anche agli altri comuni del nostro territorio perché stiamo dicendo che forse non abbiamo bisogno di demagogia siamo d'accordo che forse l'ente provincia così com'era non ha più senso ma un ente di aria vasta che si chiama UTI che dà dei servizi al nostro territorio ne abbiamo bisogno perché l'ha spiegato bene lei non voglio ripeterlo abbiamo bisogno di un ente di aria vasta che non si chiama più provincia ma si chiamerà UTI si chiama quello che vuole ma non mi interessa come si chiama mi interessa i servizi che dà al territorio e fin qua ci troviamo siamo sulla stessa lunghezza d'onda ma non abbiamo quindi anche lì non dobbiamo fare demagogia far finta che chiudiamo giusto per chiudere ma abbiamo bisogno di rivedere completamente e se abbiamo bisogno anche di semplificare l'ordinamento amministrativo di questo territorio così come è stato già spiegato molto bene da lei ecco allora e concludo perché non voglio farla lunga così il dibattito sarà mi avviso molto lungo io presenterò io spero che lo faccia la maggioranza l'avete già fatto voi per eliminare lo sottoscrivo allora se l'avete fatto allora il terzo punto che dice accetto qualunque cosa non va bene ci fermiamo i primi due punti e a questo punto diamo un segnale forte alla regione perché se questo segnale non è forte concludo non è nulla lei ha fatto un bel lavoro ma inutile e politicamente commettiamo un errore fondamentale una volta tanto dobbiamo avere anche il coraggio di dire che non siamo d'accordo non siamo sempre d'accordo e troveremo una strada per arrivare in fondo grazie grazie consigliere consigliere salvador prego grazie grazie presidente allora ringrazio anche il sindaco la giunta il vice sindaco Mazzer per lo studio che ci ha predisposto a prescindere da che costo sia valso per la stesura chiarisce sotto l'aspetto organizzativo e contabile la bontà dell'ipotesi che questa giunta vuole perseguire avere a quello dell'uti unica come lista il fiume e se posso Roberto Freschi anche so che la tua volontà è la stessa consegnarvi un documento anche integrazione completamento per corroborare la vostra la vostra scelta la vostra ipotesi di perseguire appunto l'uti unica un documento che come dire vuole evidenziare anche il ruolo politico che questo consiglio comunale parte di questo consiglio comunale vuole dare alla vostra ipotesi devo dire però che questa è una scelta come diceva dal Massa all'inizio nei chiarimenti una scelta non banale è una scelta sostanziale che inficerà moltissimo il ruolo che questo territorio e questa città avranno nei prossimi non so se dieci anni forse a direttura 20 Assessore Mazzer però partiamo partiamo male nel senso che partiamo in salita non più tardi stamattina a Montreale Valcellina credo ci siano riuniti i comuni della comunità montana o ex chiamavano come vogliamo e il sindaco Anselmi ha non dico definito senza senso questo studio ma lo ha anche come dire non ha compreso appieno l'ipotesi e la bontà di questa ipotesi proprio la comunità montana o ex comunità montana che ha un senso che l'ambito montano sia come dire costruito intorno a sé come si dice in una pubblicità però è quello che alla lunga soffrirà più di tutti il fatto che l'Uti non sarà unica e sarà un ambito a sé la montagna sarà quella che soffrirà più di tutti e lei in qualche maniera l'aveva anche preventivato nel suo intervento di prima in spiegazione la mia paura e parto subito perché la mia paura è che come dire le prospettive per tutti quei comuni che ora presiedono gli ambiti socioassistenziali attraverso i poteri anche rafforzati che le Uti permettono ho paura che si perda quel senso come diceva Pedicini il senso di area vasta perché è nell'area vasta che si trova in termini di programmazione di un territorio perché se la riforma Pannontin prevede e fa una riforma solo nei termini di ottimizzazione di razionalizzazione di riduzione dei costi nei termini dei servizi sta però al territorio indicare quali sono le forme di programmazione di sviluppo di un territorio Franco mi lasci parlare gentilmente grazie fra poco dico quello che dici tu perché mi autocancello quando sento la tua voce scusami insomma è colpa di entrambi allora il timore che ho è appunto che questo territorio adesso suona un po' forte però si balcanizzi si feudalizzi perché se questo territorio vede le UTI rafforzare i contesti degli ambiti io vorrei capire come questo territorio poi si parla tra le varie UTI le ipotesi sono molte si può parlare anche di una federazione degli UTI è tutta una strada da costruire la federazione delle UTI che possa dare respiro a questa area vasta però se scegliamo la strada delle UTI unica il percorso è già quasi pronto dovessimo dire costruiamo le 5 UTI poi andiamo a federarci dovremmo solo ritardare quello che stiamo per decidere stasera quindi l'UTI unica tanto vale non perdere tempo perseguiamo l'UTI unica il ruolo il ruolo a questo punto della città capoluogo e tutto sommato c'è un difetto che ci portiamo dal tempo non siamo stati mai riconosciuti infine in fondo città di capoluogo il fatto che in questo momento siamo quasi gli unici a sostenere l'UTI unica è figlia anche di questa incapacità di essere capoluogo nei decenni passati bisogna anche dircelo forse stasera o da stasera riusciamo a riprenderci questo ruolo indicando la strada anche politica della validità dell'UTI unica però tutta la bontà che porta la scelta di un'UTI unica è quasi inutile se da parte del territorio e tutti i comuni del territorio non c'è una presa di coscienza qual è la presa di coscienza? Il fatto che è un'illusione che i loro territori si possano rafforzare attraverso la costruzione dei cinque ambiti il vero valore lo trovano perché stanno dentro un territorio non perché si costruiscono le piccole pordenone intorno a questa area vasta provincia o destra tagliamento il valore anche dei piccoli comuni o dei comuni che sono a capo adesso degli ambiti lo trovano all'interno di un territorio se non si capisce questo non si capirà chiaramente il valore del risparmio non si capirà il valore che ha il controllo di gestione di un interauti non si capirà il valore politico di questa scelta se non si prende coscienza che all'interno del territorio questi comuni troveranno il valore per avere sviluppo in futuro allora non si potrà far niente potremmo dare tutti i numeri che vogliamo tutte le motivazioni politiche ma se non si capisce questa cosa qua che all'interno di questo territorio si trovano i veri valori di capacità di sviluppo di un territorio e dei singoli comuni non si va da nessuna parte e quindi l'argomento è strettamente politico e io spero che da stasera abbiamo ancora qualcosa abbiamo del tempo ma il sindaco che presiede anche la provincia insieme alla sua collaborazione possiate continuare a perorare questa causa dell'utilunica allora la riforma pedicini io credo che ci dia altrimenti non saremo neanche qua lo spazio per fare delle proposte quindi la riforma in qualche maniera deve riuscire a integrare la volontà di un territorio all'interno della riforma noi abbiamo gli spiragli per fare delle proposte non vedo il motivo per il quale noi dovremmo dire state sbagliando riforma non è vero se siamo qua c'è la possibilità di fare un'ipotesi la riforma tutto sommato è flessibile in questo ce lo stanno chiedendo quindi facciamola questa ipotesi mi fa piacere il ragionamento di pedicini perché viene su questa ipotesi però il tono polemico nei confronti della regione non lo vedo anche perché tutto sommato la regione ha avuto un merito che lo schema di governance di questo territorio in qualche maniera ha rotto ci sta portando a ragionare su un nuovo modello diamo il nostro contributo come territorio alla riforma merito di aver scardinato uno schema che forse che forse era vecchio per me e per noi il valore il valore che hanno come liste civiche il valore che hanno politico che hanno i sindaci è enorme perché i sindaci possono essere i veri protagonisti di questa riforma i sindaci possono essere i protagonisti della costruzione di un'utile unica e veniamo alle motivazioni perché la lista civica il fiume e anticipo scusa sempre Roberto Freschi il collega Freschi anche la volontà della lista civica Vivo Prodenone perché ci sono come si si arriva all'utile unica prima di tutto ci si arriva in questo modo i 50 comuni ora del Friuli Occidentale si devono riunire in un'assemblea nel documento questo noi lo specifichiamo lei l'ha letto Marzer mi sembra che l'assessore Marzer mi sembra che lo condivideva in tutto il percorso dovrebbe essere questo i 50 comuni del Friuli Occidentale si devono riunire in un'assemblea dei sindaci devono porre le basi del programma delle uti devono fare un atto costitutivo e uno statuto dell'uti unica in questo noi troviamo anche che cosa le motivazioni che questo territorio deve stare insieme e anche le garanzie per i singoli territori che i quali e il secondo passaggio che dovremmo fare è la costruzione dei subambiti i subambiti devono presiedere i servizi che ora con le uti si vogliono gestire e allocare e dislocare i servizi e le risorse questo favorisce alcuni aspetti politici che l'uti unica può favorire in questo modo noi possiamo lo avevamo detto anche nello scorso consiglio comunale noi abbiamo un valore come Comune di Pordenone abbiamo la qualità dei servizi crediamo che la qualità dei servizi se noi davvero attraverso l'uti unica vogliamo come dire creare uno standard di qualità dei servizi il contesto è quello provinciale vogliamo chiamarlo così chiamiamo area vasta chiamiamo attesa tagliamento quello che volete ma se vogliamo cioè la qualità dei servizi dei 5 ambiti è completamente diversa la vogliamo uniformare sì o no questo è modernità per noi sì vuol dire modernità e riforma lo possiamo fare solo dentro un contesto di uti unica servizi importanti come la viabilità l'edilizia le manutenzioni scolastiche sono di livello provinciale non sono di livello di ambito come chiamiamolo adesso sono di livello provinciale ed è giusto che l'uti unica presieda questo tipo di servizi sempre in prospettiva la uti unica potrebbe coordinare anche tutti quelle come dire gestioni che gli enti intermedi che la riforma non tocca quali l'acqua i rifiuti i consorzi bonifica le opportunità future che l'uti unica apre sono enormi perché altrimenti rischiamo la feudalizzazione di questo territorio e la paura che queste uti diventino isole solitarie dentro un grande mare ripeto la federazione degli uti potrebbe essere un passaggio ma è soltanto una perca di tempo confronto all'ipotesi che stiamo perorando stasera dell'uti unica sempre riguardo al futuro di questo territorio alle vocazioni di questo territorio che ne stiamo discutendo da mesi in provincia in questo comune che le scelte sulle politiche del lavoro la relativa attivazione di azioni comuni da parte delle varie entità comunali non potranno essere relegate all'interno delle dimensioni di uti la vera dimensione delle scelte delle politiche del lavoro è quella provinciale e l'interlocutore regione deve avere un ente di area vasta che gli possa permettere ripeto non stiamo ripristinando la provincia stiamo dicendo che superiamo la provincia nessuno mette in discussione il valore dell'area vasta abbiamo messo forse in discussione il valore dell'istituzione interprovincia che è una cosa diversa noi crediamo che il superamento della provincia sia il rafforzamento di un ente di area vasta l'uti unica non si poteva fermarsi a quello che eravamo prima era necessaria una riforma della governance territoriale altre vocazioni che questa uti unica potrebbe perseguire per questo territorio sono sicuramente le scelte che noi faremo sulle politiche delle scuole superiore l'ambiente le zone industriali le zone commerciali sia lei sia il sindaco avete ricordato se ci fosse stata un'uti unica un ente che presiedeva la costruzione e l'organizzazione dei centri commerciali a questo punto avremo molte meno difficoltà a gestire gli attuali e infine quello che ci sta più a cuore la riforma e questo bisogna dar merito alla regione di averlo introdotta prevede anche un processo di diffusione dei comuni noi riteniamo che i sindaci sono l'elemento più importante del governo di un territorio come lista civica il valore del sindaco è enorme è in quello che noi ci riconosciamo i sindaci però devono avere anche la capacità di poter rappresentare un territorio omogeneo sotto l'aspetto economico sociale e anche urbano urbanistico però anche un territorio adeguato noi riteniamo che all'interno dell'area vasta la rappresentazione frammentare di 50 comuni è assolutamente anacronistica bisogna all'interno di un'uti unica programmare coordinare una roadmap vera e propria un piano delle fusioni dei comuni non è possibile che la prossima governance del territorio sia delegata solo esclusivamente ad enti di secondo livello quali sono le uti questo significa che il valore singolo di ogni cittadino si perde ha ragione tutto sommato anche nel suo tono polemico il consigliere Ribetti il valore singolo del voto è importantissimo noi non possiamo deformare il valore che c'è nella delega che il cittadino ci dà a rappresentarsi posso capire che il comune di Pordenone all'interno della sua uti abbia il peso ponderale però noi comunque deformiamo il valore del singolo voto nel momento in cui Roveredo vota il suo rappresentante all'interno della sua uti noi crediamo che la parte più importante sia proprio la fusione noi dobbiamo dei comuni perché dai comuni dalla fusione dei comuni nasce l'adeguata rappresentanza di un territorio l'adeguata rappresentanza del territorio avviene attraverso l'elezione diretta e attraverso l'elezione di un sindaco che è l'unico vero capace di leggere il proprio territorio sia in termini di servizi sia in termini di programmi di sviluppo di quel territorio e di quella comunità faccio solo un esempio se all'interno di un'utile unica noi ragioniamo in ipotesi sto facendo solo ipotesi di una fusione tra il comune di Pordenone e di Fontanafredda ci troveremo il comune di Pordenone in un ambito e il comune di Fontanafredda in un altro quali prospettive di fusione hanno di capacità di fare territorio omogeneo nessuna perché sono in due contesti completamente diversi la pedemontana ha una vocazione turistica fortissima può trovarsi divisa in due ambiti Montreal da una parte avviamo da un'altra quale processo di fusione tra i comuni che io auscupo della pedemontana che possono finalmente avere un'unica voce su una politica di turismo può avere attraverso la divisione di questo spazio territoriale in due uti si doveva partire dalla fusione dei comuni noi dobbiamo dare il contributo attraverso un piano di fusione dei comuni e lo possiamo fare in maniera molto più ragionata consapevole e condivisa all'interno di un'utile unica quando si chiudo facendo e si giusto rubo 30 secondi poi mi taccio l'esempio di Campo San Piero che è citato moltissimo anche dall'assessore Panuntin diretto dal direttore dell'uti di Campo San Piero Luciano Gallo lui dice sempre Luciano Gallo il valore del numero di 100.000 abitanti è il minimo indispensabile in un contesto nel quale alcune azioni di governo fra dieci anni saranno di tema di aree di macro regioni 100.000 abitanti non peseranno nulla noi dobbiamo creare una massa critica di almeno 300.000 abitanti e noi quei 300.000 abitanti un po' di più li abbiamo infine ricordo al sindaco che siamo noi che dobbiamo guidare questo processo a quel punto noi come territorio daremo il nostro contributo e finalmente finalmente noi avremo la capacità di essere capoluogo di un territorio se non di una provincia ma di un territorio e saremo forse i più geniali interpreti di questa riforma che la regione ci ha posto grazie grazie consiglio Salvatore consiglio Piccinato prego grazie presidente allora parto presentando l'emendamento che ho consegnato saltando praticamente tutti i convenevoli chiedo un po' forse provocatoriamente ma visti i dati che ci sono stati forniti prima è un sentire che va proposto il ripristino dell'ente provincia molto semplicemente questo perché credo che in questa in questa sede visto che qui si chiede una modifica si possa chiedere anche questo senso tant'è che io devo devo dire che ho visto una spiegazione dei costi delle uti ma non ho visto una spiegazione di differenza del costo tra la provincia e queste uti tra l'altro queste anzi si va a rischio che ci sia una moltiplicazione dei costi si va a rischio che ci sia una moltiplicazione dei conflitti si va a rischio che ci sia una moltiplicazione dei disagi tra le competenze e tutto il resto ora io capisco che ci sia che parte dal comune di Pordenone una richiesta di una uti unica benissimo ma ci sono dei punti che non funzionano perché sappiamo bene che in ogni caso ci sono ci saranno in ogni caso dei disagi rispetto a prima e probabilmente dei costi maggiori tant'è che studi di diminuzione dei costi non ce ne sono riguardo allo studio presentato dall'assessore Mazzer mio nonno diceva che uno studio che un qualcosa fatto a costo zero a valore zero quindi al di là del fatto che l'assessore possa aver detratto tempo personale che invece che dedicarlo alla città l'abbia dedicato anche in funzione più vasta che ci può stare io credo credo che servano studi di questo la ringrazio la ringrazio la ringrazio sentitamente ma infatti infatti l'ho anche difesa in questo senso ho detto che anche se ha detratto tempo la società l'ha fatto in maniera positiva comunque ora non credo che porterà i frutti sperati però dobbiamo provarci anche giusto sì mi aveva un po' frainteso in questo senso le critiche arrivano dopo quindi ora quali sono gli effettivi risparmi che porta a questo tipo di modifica generale ancora io non l'ho capito anzi io ho visto in questo momento ho solo dei rincari in più tant'è che poi mi ha affermato che in ogni caso i dipendenti della provincia che sono il costo maggiore che i cittadini devono pagare quelli dei dipendenti verranno in qualche modo fatti rientrare in un modo o nell'altro comunque all'interno degli schemi futuri della governance territoriale ora ho sentito adesso il consigliere Salvador parlare di massa critica di 100.000 abitanti che non sono nulla che il minimo sarebbe 300.000 abitanti in questo senso sembra quasi un po' sposare la visione del consigliere Giannelli dove vedeva un centro cittadino ricolmo di grattacieli che si ergono all'altezza stellare e poi un prato verde tutto attorno quasi fosse l'Amazzonia con al centro questi grattacieli dove si fa la massa critica e si spoglia tutto il resto del territorio in questo senso ma non è così il territorio del comune di Pordenone e dell'Italia in generale non è così abbiamo bisogno di ripopolare le montagne abbiamo bisogno di rendere il territorio variegato abbiamo bisogno di mantenere le specificità dei comuni abbiamo bisogno di fare massa critica ma ognuno con le proprie specificità non un passant così tanto per fare visto che cito sempre questo perché alla fine è una questione che a me va perfettamente a cuore è quella dell'euro che ci avevano detto che con l'euro avremmo protetto la nostra economia abbiamo le nostre aziende che vengono con l'euro massa critica abbiamo le nostre aziende che vengono ogni giorno comprate dai cinesi dagli arabi dagli americani stiamo perdendo tutto anche la dignità in Italia facendo massa critica questo non significa niente bisogna pensare in prospettiva in maniera intelligente non a logica quasi giacobina in senso assolutista guardiamo i dati guardiamo quelle che è la realtà un attimo e per questo riguardo le possibilità di accorpamento dei comuni delle funzioni va benissimo accorpare la statistica ma già sui progetti e anche il sistema di esproprio il servizio di esproprio ma già sui concorsi europei io credo che i comuni si facciano concorrenza tra loro e che quindi poi vadano ad imputare perché poi c'è sempre qualcuno che mette le mani un po' più avanti dell'altro e quindi che poi nascano ulteriori faide perché il progetto comunitario la richiesta dei fondi l'ha fatta Pasiano piuttosto che Cloud piuttosto che Pordenone perché in qualche modo il funzionario era un po' più amico di quelli di Cordenonso piuttosto che quelli di Sacile e allora una gestione tutti assieme per interessi diversi rischia di essere una schifezza da questo punto di vista quindi già qua non siamo in grado di poter ottenere dal mio punto di vista un servizio efficace perché alla fine la richiesta di fondi ricordiamolo è in concorrenza sono sempre soldi nostri ma sono in concorrenza poi riguardo alle comunità montane anche qua sia in questo senso cioè o si tutela la montagna in un senso oppure si fa l'utti unica in un altro senso oppure diventa anche qua un pateracchio un casino qualcosa che diventa tutto non chiaro non c'è una riforma complessiva che dia modo di dare spazio a questo tipo di realtà che hanno bisogno di essere in qualche modo non tutelate ma spinte di essere aiutate quindi anche da questo punto di vista bisogna fare una rivoluzione molto più profonda e le le soluzioni che sono state proposte non sono assolutamente convincenti dirò di più anche sulla politica commerciale comune che è stata prospettata vale lo stesso discorso per i fondi europei perché San Vito è magari più brava riesce a prendere più fondi rispetto a Cimo Lais e magari Fontana Fredda è più brava rispetto a Zoppola e allora abbiamo gli interessi che anche lì ci scontrano e qualcuno ci rimette sempre invece che prima almeno c'era una certa equità allora vediamo di fare qualcosa di più intelligente studiamola in maniera migliore poi se devo vedere anche il ruolo che mi si è prospettato cioè mi sembra un po' di vederla in questo senso di una politica commerciale comune dal mio punto di vista rischia di essere la politica dei centri commerciali perché poi alla fine si va a spingere molto facilmente visto che le risorse stanno lì in quella direzione lì quindi andando a creare un ulteriore casino dove invece i soldi ci sarebbero bisogno per sponsorizzare quelle che sono le nostre specificità territoriali e che nessun altro ha perché i centri commerciali li hanno tutti poi per quanto riguarda la funzione del ruolo del capoluogo cioè rischiamo con questo io se fossi stato il sindaco per dire creiamo non condivido ma creiamo questo ruolo egemone del comune di Pordenone avrei spinto forse stato in lei nella città dei centomila abitanti di questa aggregazione forte in maniera tale da fagocitare i miei i miei comuni limitrofi e ottenere la leadership alla fine con questo peso dei centomila all'interno della provincia invece non si fa neanche gli interessi suoi ma addirittura qualcosa che con le proposte rischia di essere addirittura contrario cioè andare a depotenziare il comune capoluogo in favore di qualcosa che rischia di essere in una voto non ponderale ma a testa pro capite con qualche che magari viene modificata perdere quindi il peso del 17% e renderlo al 2 quindi un qualcosa che rischia davvero di andare a penalizzare anche i cittadini di Pordenone allora sì adesso ci arrivo l'ho già detto prima l'ho anticipato con l'emendamento quindi credo di non avere credo di non avere dubbi con l'emendamento che ho portato allora anche qua che cosa è stato prospettato di avere un aiuto dalla provincia a queste uti ma cosa significa di preciso cioè visto che comunque abbiamo già constatato che la provincia rimarrà a disposizione non era meglio integrarla e modificarla in senso migliorativo rivoluzionare in senso migliorativo ma senza andare a creare tutti quei disagi che invece con questa formazione delle uti sicuramente andremo a creare quali sono le competenze che andranno a conflitto l'ha detto prima il consigliere Salvador sulle strade c'è tutta una serie di competenze che andranno a confliggere perché lo sappiamo già l'uti unica con questa riforma probabilmente non si farà noi proviamo anche a spingerla certo perché alla fine io sono contento che voi esprimiate quello che è anche il mio sentire cioè un ritorno alla provincia perché l'uti unica non è altro che un ritorno della provincia con costi maggiori e con disservizi maggiori questo dice il documento che ha anche presentato lei in sostanza alla fine perché tutto quello che c'è rimane e in più si aggiungono un po' di dirigenti un po' di funzionari un po' di ragionieri alla fine perdiamo la democrazia e in cambio abbiamo un po' di burocrazia io non so se i cittadini siano così contenti di questo tipo di di riforma quindi poi c'è anche il nodo che secondo me è fondamentale gli eventuali risparmi io non credo che ce ne siano dove verrebbero utilizzati non si sa quindi c'è tutto sì io ho ascoltato con attenzione il discorso del consigliere Salvador che parlava della sua gioia nel trovare in queste uti una rottura degli schemi attuali nella nella governance del territorio ora sicuramente sì c'è una rottura degli schemi ma da chi dobbiamo guardare questa efficacia cioè dal cittadino o boh a favore di qualcuno della burocrazia perché le cose in questo momento sono una in conflitto all'altra mi ha fatto un po' quindi per concludere l'intervento mi ha fatto un po' pensare il termine che ha utilizzato lei assessore nella spiegazione cioè il trapasso credo che questa attraverso questa questa riforma le province ma i territori andranno veramente al trapasso attraverso anche sì sì al trapasso nel senso a miglior vita che già sono in estrema difficoltà e noi ulteriormente andiamo in un momento problematico ad aumentare i problemi le conflittualità i disguidi per i cittadini quindi sicuramente una riforma sulle utiche dal mio punto di vista è pessima cerchiamo di salvare il salvabile nella maniera migliore possibile grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego sono un po' confuso ma credo che il dibattito e i chiarimenti che poi farà la giunta l'assessore il sindaco nelle repliche ci daranno la possibilità di chiarire un po' meglio la portata effettiva di questo no torno indietro cancelliamo non è che sì il legislatore nazionale sia stato fermo purtroppo cioè effettivamente assessore mazzer è vero noi questo stato dal 2010 in poi ha avuto una serie di provvedimenti importanti quindi scopriamo che con un decreto legislativo poi convertito in legge numero 78 credo del 2010 dove si comincia a parlare di spending review compare nella legislazione nazionale un'idea che qualcosa prima o poi su questi tanti comuni che ci sono in Italia le province e tutto il resto le regioni perché poi arriverà ben presto anche la partita delle regioni quel famoso decreto legislativo decreto legge scusate poi convertito in legge ha stabilito una cosa che attendavamo da anni cioè la definizione delle funzioni fondamentali dei comuni dopo la riforma del titolo quinto è intervenuto questa nel 2010 il legislatore nazionale dice queste sono le funzioni fondamentali dei comuni e dentro quell'indirizzo già aveva tratteggiato ipotizzato un qualcosa che non è che noi oggi o la regione frimezza Giulia a guida serracchiani come dire stia al di fuori di questo sistema normativo ordinamentale che il centro ecco vorrei che ascoltasse non perché deve ascoltare me ma chi ha una tradizione federalista dovrebbe occuparsi di queste cose e perciò comprendere che dal 2010 in poi tutto ciò che era l'animus federalista la concorrenza positiva dei territori è andato via via smarrendosi all'insegna di una legislazione che ha posto come primo elemento l'economia il contenimento dei costi il coordinamento della finanza pubblica e quindi tutto ciò che è il portato costituzionale della nostra autonomia organizzativa comunale è andato disperdendosi cito l'articolo 5 cito l'articolo 114 della costituzione poi ce ne saranno anche altri ma sostanzialmente quello che c'era scritto lì dentro improvvisamente si è un po' evaporato diciamo perché dite prima di tutto bisogna seguire quello che ci dice l'Europa contenere i costi quindi dobbiamo riorganizzare questa gigantesca macchina comunale provinciale tutto ciò che c'è lì dentro sempre quel decreto legge fissava anche ulteriori condizioni e cioè diceva che per i comuni fino a 5.000 abitanti già stabiliva qualcosa che poi il legislatore regionale ha fatto fino a 5.000 abitanti sotto i 5.000 abitanti scusa era necessario procedere o a unioni o a convenzioni a norma dell'articolo 30 credo 30 31 32 del testo unico degli enti locali poi l'anno successivo sempre lo Stato ci ha detto che i comuni sotto i 1.000 abitanti sono di fatto non solo commissariati ma questo lo ha detto lo Stato legge dello Stato quindi periodo di severità nella gestione dei conti l'Europa ci controlla abbiamo andato a casa finalmente Berlusconi quindi adesso insomma mettiamo a posto bene le cose e quindi nel 2011 dice i comuni sotto i 1.000 abitanti necessariamente non è che possono scusate convenzionarsi devono entrare obbligatoriamente nelle unioni poi ci sono stati ulteriori interventi arriviamo grosso modo al 2014 quando sempre lo Stato fa una legge che se voi andate nell'Ujurisdata vi dirà abolizione delle province abolizione delle province ma che tutto è fuorché abolizione delle province perché dice le province sono enti di area vasta e come si eleggono questi enti hanno un presidente hanno un'assemblea dei sindaci insomma tutte cose che bene o male sono state fatte anche qui sostanzialmente anche perché è evidente la straordinaria coincidenza per cui i governatori di questa regione e anche il numero due o tre del partito di governo che esprime il presidente del consiglio dei ministri ha qualche accesso diciamo privilegiato di informazione cioè sa che Del Rio ha nel cassetto il sistema di riordino dell'autonomia locale come supereremo le province come supereremo le regioni spendacione dopo tutte le inchieste famose dalla Corte dei Conti delle varie procure che ci sono in Italia quindi c'è questo tema e per cui agli italiani si è raccontato la fiaba secondo la quale abbiamo tolto le province cosa assolutamente non vera le province godono di ottima salute si chiamano enti di area vasta ci sono persone come lei caro sindaco che fanno anche i presidenti delle province insomma non mena gran scandalo questa vicenda ormai ci siamo abituati salvo poi ricrederci per il fatto che non sappiamo dove collocare queste funzioni cioè come arriviamo al superamento quindi abbiamo avuto una legislazione dello Stato impegnata che a posto delle questioni che vanno contro una cultura giuridica italiana consolidata un sistema che è quello della equi ordinazione degli enti comuni province città metropolitane regioni fin anche lo Stato e a questo sistema si è deciso sistematicamente di mettere mano attraverso leggi ordinarie leggi ordinarie non sono leggi costituzionali sono leggi ordinarie qualche giurista dice ma insomma tutto questo sta in piedi perché stanno fioccando la Corte Costituzionale una serie di ricorsi da più regioni da più comuni sulla problema sulla effettiva possibilità dello Stato con legge ordinaria di superare un impianto ordinamentale che è previsto dalla Costituzione a questo si dice beh insomma c'è comunque nella Costituzione ci sono ci sono i correttivi a questo e comunque il Parlamento e comunque lo Stato ha una competenza esclusiva che è quella del coordinamento della finanza pubblica che è quella della perequazione degli equilibri di bilancio e quindi articolo 117 credo primo comma primo secondo comma e quindi ci sta di conseguenza la lettera P del secondo comma dell'articolo 117 sempre nell'ambito delle competenze esclusive stabiliva che sia lo Stato a determinare le funzioni delle comuni dei comuni e così e così ha fatto solo che qualche giurista oggi si interpreta ma cosa si intende lo Stato determina le funzioni delle amministrazioni comunali come se non lo sapessimo come se in tutti questi anni non sapessimo che sono le funzioni dei comuni ma la questione non è banale perché 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 effettivamente qualche costituzionalista dice ma insomma non facciamo tante questioni è inutile che i territori e le periferie si ribellino rispetto allo Stato o rispetto al disegno riformatore che c'è in atto perché comunque il principio di adeguatezza differenziazione di sussidiarietà è comunque rispettato e lo può individuare solo il legislatore nazionale ecco fatto questa premessa per dire che io capisco il lavoro che state facendo comprendo le difficoltà che avete avuto anche dal punto di vista politico per cui avete posto rimedio alla soppressione della provincia di Pordenone unica in Friuli Venezia Giulia le altre stanno ancora in piedi mi pare che Fontanini faccia convegni dalla mattina alla sera non so se la Gorizia è un presidente della provincia ancora elettivo di Trieste addirittura un territorio dove è una città no lì ansiatica no ansiatica con 5 comuni intorno 80-20% della popolazione questa è la differenza tra la città capoluogo e i comuni che compongono la cioè abbiamo delle contraddizioni fantastiche poi il nostro legislatore nazionale ci dice guardate province dove ci sono i capoluoghi di regione lì la provincia deve esserci quindi noi dovremmo tenerla necessariamente a Trieste quindi dovremmo mantenere storicamente la provincia di Trieste vabbè e quindi mi rendo conto che ci siamo mossi sulla spinta di un disegno riformatore dello Stato che effettivamente questi 3, 4, 5 anni di legislazione emergenziale dovuta al commissariamento politico che ha subito l'Italia dove l'ultimo presidente eletto dagli italiani è stato tolto sulla base di una congiura decisa Bruxelles dai poteri forti e questo è il Rubiter questo è il Rubiter questo è il Rubiter e però è andata così e quindi la farina la dobbiamo fare con il pane che abbiamo a disposizione e il pane che abbiamo a disposizione ci dice ci dice ci dice che eh? sì scusa scusa sì allora dobbiamo in sostanza utilizzare questi sapientemente questi elementi che abbiamo e sullo sfondo il presidente Seracchiani non è stata con le mani in mano e di fatto inizia la sua legislatura e piazza lì subito due riforme una riforma sul sistema del sistema riordino degli enti sanitari e l'altra riforma pesante che è questa che il riordino del sistema delle autonomie locali che significa che fatto questo se il presidente del consiglio dovesse chiamarla a fare il ministro al posto di lupi avrebbe tutte le carte in regola per poterlo fare avrebbe tutte le carte in regola insomma preso la regione l'ho sistemata quelli di prima erano brutti e cattivi non hanno fatto nulla io insomma ti cambio la sanità ti cambio il sistema dell'autonomia locale gli do una svegliata a quelli di Pordenone per cui Pedrotti lo faccio diventare nonostante il PD non fosse d'accordo presidente della provincia magari anche gli permetto di fare il sindaco dei sindaci perché la verità sostanzialmente è questa questa è la filosofia del renzismo d'antan che esiste oggi in Italia per cui non esiste equipollezza degli eti non esiste più nulla ragioniamo come sindaci di periferia e con questo gestiamo il paese questa è la verità non c'è altro da fare a questo siamo ridotti allora la crisi evidente di questa maggioranza dico crisi dal punto di vista politico la pochezza sostanziale di argomenti che avete perché non ne avete vi inventate questa delibera questa soluzione che sapete non potrà mai passare se non attraverso quello che scrivete nel comma terzo e lì ha ragione a Pedicini Pedicini ha centrato perfettamente l'argomento per cui se salta quel comma lì voi non potete neanche incontrarvi con la Seracchiani perché siete fuori dalla previsione normativa e noi saremo a sostenere ciò che volete fare oggi siamo d'accordo con voi noi vogliamo una grande Pordenone vogliamo una grande Pordenone non stupidamente una grande Pordenone vogliamo un sistema che funzioni se qui ci sono degli uffici e dell'eccellenza che possono servire agli altri ben venga siamo d'accordo con lei Mazzar io sono assolutamente d'accordo con lei però dovete spiegarlo agli altri sindaci francamente non mi pare che siano tutti della stessa opinione c'è qualcuno che si è rivolto all'avvocato c'è qualcuno che ritiene che il sistema dell'autonomia è policentrico no? policentrico del Friuli Venezia Giulia sia tale per cui l'autonomia anche del piccolo vada comunque salvaguardata perché la chiesa il campanile l'oratorio la fabbrichetta hanno costruito l'unità territoriale politica magari anche le minoranze linguistiche ma insomma oggi mi pare che siano 40 o 50 sindaci che hanno già deciso di intraprendere la strada dei ricorsi altare la sorta la verificheremo concludo e questa la verificheremo sotto profilo della efficacia efficienza una riforma e mi pare che il legislatore nazionale sia assolutamente chiaro in questo dice dobbiamo ridurre sostanzialmente anzi mettere insieme questi enti attraverso forme obbligate dove si annida sostanzialmente la potenziale inefficienza la giunta regionale fa uno studio che sarebbe stato sufficiente che voi questa sera portaste lo studio l'analisi di verifica fatta dalla giunta regionale che è sempre la stessa che Giliadani sono sempre gli stessi sono quelli che vengono fuori dall'istituto di Tagliacarri mi lascio finire qualcuno dalla Bocconi e continuano a raccontarci sempre le solite cose però lì dentro c'è scritto ci sono le ragioni per le quali lei oggi propone questa delibera cioè che nei piccoli comuni quelle che sono le spese ordinarie di funzionamento costano in modo esponenziale rispetto ad un grande comune per cui non sviluppano economie di scala questo è il tema questo è il tema vero solo che tutto il resto non lo possiamo sperimentare in termini di efficienza e di efficacia perché non c'è la riprova di questo perché non ci sono i parametri di questo perché avete semplicemente fatto una riduzione algebrica di questi costi concludo al secondo intervento consigliere le devo togliere la parola concludo concludo anzi non concludo al secondo intervento do la parola al mio amico nonché il capogruppo che potrà concludere al posto mio va bene grazie consigliere Giannelli prego chiedo innanzitutto ai colleghi se mi consentono di parlare seduto se no mi tocca fare così posso perché ho un problema non riesco poi non l'ho capito perché loro stanno seduti e noi no cioè è molto difficile no no ma non per mancanza di rispetto perché effettivamente così si parla bene è molto difficile intervenire dopo avere gli interventi di pedicine di Dalmas che sono perfetti allora sono perfetti io non saprei cosa dire salvo che a un certo punto mi prendo mi sono preso nota il 4 aspettate il 4 febbraio del 2015 la giunta regionale composta ma della Seracchiani mi interessa poco composta da personaggi come Sergio Bozzonello la giunta si riunisce e delibera che Pordenone deve essere strutturato come noi non vogliamo e cioè in modo diverso di forme perché praticamente di 5 uti noi ne facciamo una unica quindi diciamo che la giunta regionale si sono riuniti siccome non sapevano cosa dire cosa fare cosa facciamo va nella provincia di Pordenone facciamo 5 uti no poi Bozzonello ha detto 4 un altro 3 no no 5 sta meglio come numero funziona di più Assessore io sono perfettamente noi voteremo a favore siamo d'accordo con voi ma poi è come Pierino che va dalla mamma e dice mamma alla mia festa avevo 50 amici poi dice non so se la mamma forse si incazza e lui dice beh beh comunque in subordine il numero massimo più che puoi invitarne meglio è siamo ridicoli Assessore o abbiamo le palle di portare avanti questa vicenda in modo totalmente difforme dalla delibera della giunta regionale alla quale voi dovrete rendere conto allora no no la delibera della giunta regionale parla di 5 uti punto voi ne proponete una sola e sono d'accordo perché abbiamo insomma dal maspe di Cina ha detto bene però dopo alla fine dite però se non siete d'accordo va bene anche tre fate meglio che potete questo è patetico per cui io posso già annunciare che il nostro gruppo è perfettamente d'accordo con voi salvo salvo eliminare quel punto tre il punto due va bene perché per carità i palazzi della provincia devono essere utilizzati però per piacere non fatevi ridere non fatevi ridere dai cittadini perché già sono incazzati che il direttore guadagna 120.000 euro all'anno e già questa è una cosa va glielo a dire tu il primo dato che emerge è che abbiamo un mega direttore galattico da 120.000 euro dopodiché però alla fine diciamo però vedi tu ragione siccome siamo i figli della serva siamo gli ultimi bene ha detto dal MAS l'unica provincia che hanno eliminato vedete dateci una mano fate quello che potete insomma aiutateci signori siamo seri grazie consigliere consigliere passoni prego presidente consiglieri colleghi desidero ringraziare l'assessore Mazzer per questa proposta coraggiosa che può aiutare il nostro territorio a rafforzare le funzioni di aria vasta perché questa necessità comunque c'è e nell'ordine delle cose e questa può essere la risposta giusta migliore disidero ringraziarlo perché rispetto alla proposta dei cinque ambiti consente ulteriori risparmi e ulteriori sinergie certo ci sarà un percorso non facile me lo aspetto del resto le forze politiche fin qui hanno avuto difficoltà a dare un'indicazione precisa e credo che questo ruolo adesso se lo prendano in questo momento noi tutti in questa aula e penso i comuni di tutta la nostra provincia per dare una risposta rispetto alle richieste che vengono dalla nostra comunità dai nostri cittadini dalle nostre imprese dalle associazioni di categorie sociali ed economiche che ci chiedono spesso di frequente di ridurre i costi costi della politica i costi delle pubbliche amministrazioni e efficienza nei servizi erogati al territorio sia ai cittadini che alle imprese mi pare che dello studio che lei ha presentato è evidente il risparmio non solo iniziale perché poi quel risparmio iniziale proseguirà nel tempo questo poi tra l'altro consentirà le migliori energie le migliori eccellenze che abbiamo nell'ambito del nostro comune e anche nell'ambito della provincia una giusta collocazione in questa uti unica e penso che questa è una cosa che non è da sottovalutare anzi ed è per questo che io credo che noi qui in quest'aula stasera dovremmo tentare di fare un voto unanime per rafforzare questa proposta una proposta che cerca di rispondere alle esigenze di questi tempi di grave crisi che non sono finiti che non sono finiti del resto questo anche consentirà nel momento in cui gradualmente la provincia cederà il passo perché queste riforme sono in corso sono in atto non è che coinvolgono solo Pordenone coinvolgono tante province in Italia che hanno questo percorso di avere a fianco questa struttura che gradualmente non dico che la sostituisca perché poi le competenze che noi anzi vorremmo che ci fossero nell'uti unica forse rafforzerebbero ancora di più questa politica di programmazione per aria vasta tra l'altro nel rispetto degli ambiti designati che funzionano e funzionano bene hanno le buone eccellenze e con questa proposta noi non è che vogliamo cancellarla tutt'altro vogliamo rafforzarla perché questo è il modo migliore per fare sinergia per anzi equiparare i servizi nel territorio nei vari ambiti è una proposta di coraggio è chiaro che in questo momento ci vuole di fronte alla paura della situazione dei cittadini una prova di coraggio della nostra amministrazione e di tutte le amministrazioni del territorio è necessaria noi stasera qui lo faremo con convinzione so che sicuramente ci saranno ostacoli ci saranno mal di pancia gente che ha paura di perdere un po' di potere un po' nel proprio ambito però questa proposta non vuole sottrarre l'autonomia piena sia dei subambiti sia delle comunità montane sia dei singoli comuni che rimarrà e quindi io penso che noi non dobbiamo affrontare questa discussione pensando alla legge regionale pensiamo a quello che la legge regionale ci consente di fare e questa è la nostra proposta per quanto riguarda la scelta sull'ambito so che è difficile perché certamente molti vorranno una loro autonomia nell'ambito del mandamento e stanno cercando di mettersi d'accordo io penso che questa è la strada più coraggiosa che è una sfida non solo per il nostro territorio per cercare di rispondere alle esigenze vere di ridurre la tassazione di essere più competitivi perché questa è questa è la volontà di questo territorio lo spirito e quindi penso che continuare a parlare dell'onregge può piacere o non piacere ma che è stata fatta che è dato la possibilità a noi oggi di fare anche questa proposta non è contro nessuno e penso che sia per il nostro territorio questo è molto importante ed è evidente nella simulazione di questo studio perché noi non possiamo trascurare gli aspetti dei costi e anche le motivazioni che possono nascere da questa nuova riforma in qualche modo che consente a un o una uti unica di rispondere in miglior modo alle esigenze del nostro territorio che ripeto non trascurare l'aspetto della tassazione infatti qualcuno continua a dire una Pordenone declassata che io non credo Pordenone declassata come tutte le altre province d'Italia che soffrono di questa crisi economica molto forte molto evidenti e però questa può essere una prima risposta che dà un'istituzione rispetto a questo a rispetto a questo a queste difficoltà che ci sono oggettive io penso che tutti i consigli comunali che saranno chiamati a decidere su come organizzare le uti di fronte a questo documento dovranno quanto meno riflettere e non pensare solo a se stessi perché anche noi in questo momento che vogliamo decidere per il sì con convinzione siamo consapevoli delle difficoltà che nasceranno che sorgeranno capisco anche la paura di perdere forse qualche autonomia che poi in realtà non è nelle cose perché lo ripetisce anche il documento legato alla deliberazione che simula i costi delle varie uti anche sul territorio i costi pro capite non si può non trascurare il fatto che i costi di gestione comunque di questa uti territoriale diminuiscono oltre il 70% questi sono dati di fatto che nessun politico nessun amministratore può trascurare anche perché queste risorse che si liberano possono aiutare a migliorare altri servizi che possiamo offrire il territorio è evidente che diciamo le competenze attualmente delineate sono ridotte e noi ci auguriamo che con questa nostra proposta la regione possa e voglia aggiungere quei servizi che noi siamo in grado già oggi di fare non solo per noi ma per tutto il territorio quindi oggi riusciamo a veramente esercitare quella funzione di comune capoluogo di provincia che abbiamo già fatto in altre circostanze ma che stasera secondo me sottolineiamo con forza e con coraggio che io spero tutti sappiano apprezzare a prescindere dai colori politici perché ho detto prima le premesse tutte le forze politiche in questo momento sono in difficoltà rispetto a questa opzione e quindi io su questo argomento penso che tutti dobbiamo avere la capacità di dire noi qui lavoriamo per i nostri cittadini prima che per altre istituzioni e quindi proprio per questo noi dobbiamo pensare al futuro con quel coraggio che spesso è mancato anche all'esilatore regionale perché io penso che sia stato più una mancanza di coraggio forte perché magari comprendendo gli ostacoli che possono venire dai vari territori perché ognuno di ciascuno di questi territori ovviamente vuole mantenere una sua forza diciamo in questi ambiti noi chiediamo non di darla a Pordenone ma di darla a una sorta di nuova provincia di Pordenone anche se non è piacevole dire così perché è un'altra cosa assolutamente un'altra cosa e mi dispiace per quei colleghi che hanno avuto nei loro programmi elettorali politici nazionali la soppressione delle province adesso ci vengono a raccontare che non sono d'accordo e ci vengono a presentare emendamenti di vario tipo ma sono contro la loro storia allora invece noi siamo nella storia di questo paese che sta viaggiando con grande difficoltà e che la comunità ci chiede di ridurre i costi sia della politica sia delle amministrazioni pubbliche e noi dobbiamo farlo perché questo è il nostro compito in questo momento e quindi ringrazio l'assessore per questa scelta che propone a quest'aula e quest'aula dovrà avere il coraggio che ha avuto l'assessore nel proporre questo studio vi ringrazio grazie consigliere consigliere martino prego silenzio aspetto l'assessore grazie grazie presidente Anch'io mi unisco ai colleghi che hanno ringraziato l'assessore per il lavoro svolto per questa proposta di delibera e annuitamente ai collaboratori che vi hanno partecipato. A differenza di alcuni colleghi dell'opposizione, io sono molto convinto che questo lavoro porterà dei risultati perché l'impianto è un impianto che va a toccare dei punti cardine in questo momento. Per la mia riflessione, per il mio intervento, parto da una frase dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Alcuni mesi fa lui diceva che la società italiana è percorsa da una fase di profonda incertezza e inquietudine nella quale forse sarebbe da rivisitare e più fortemente affermare la nozione di bene comune o quella di interesse generale. Naturalmente questa frase è estrapolata da un contesto, così da un ragionamento, che parlava un po' della congiuntura attuale. Quindi in un quadro così delineato vanno a collocarsi una serie di provvedimenti normativi, dei quali alcuni già definiti, altri in corso d'opera, sia a livello nazionale sia a livello regionale, che prendono in esame il concetto più in generale dell'interesse comune. È stato toccato da più colleghi questa sera, ma credo che non sia stato messo, almeno da parte di alcuni, al centro veramente della politica. Questo concetto viene attuato attraverso delle misure per la revisione della spesa pubblica, viene riportato in questi testi, con invarianza dei servizi cittadini. O almeno io dico si spera, perché il tempo dirà poi se dall'attuazione concreta di questi provvedimenti seguiranno dei significativi risultati a vantaggio appunto della collettività del sistema Paese. Per questo motivo vanno assolutamente evitate logiche meramente ragioneristiche. C'è un prezzo che la collettività e l'economia del Paese non possono permettersi, neanche a fronte di asserite risparmi di spesa, talvolta neanche quantificati e tantomeno dimostrati. Secondo me la democrazia, intendendo tutto quello che il significato del termine vuole dire, ai suoi costi e chi governa, chi amministra il dovere, la responsabilità, che siano dei costi giusti, senza scaricarli, come spesso è avvenuto in Italia, sui cittadini. Il riordino, con la previsione della cancellazione delle province, nonché la razionalizzazione delle strutture dello Stato attraverso la creazione dell'UTS, cioè l'Ufficio Territoriale dello Stato, quale punto di contatto locale tra amministrazione, statale e cittadini, come principio vanno nella direzione giusta, cioè verso una razionalizzazione delle risorse a disposizione. Ne abbiamo parlato anche negli ultimi due consigli comunali. L'importante, secondo me, è che non vi sia un arretramento generalizzato delle istituzioni. Andando alla legge di riforma degli enti locali, anche la proposta dell'assessore Mazzer di un'unica UTI va nella direzione giusta. Dalla simulazione effettuata, dai dati presi in esame, sono emersi dei punti di forza, dei vantaggi per i comuni che decideranno di mettersi insieme. Non solo nella UTI di appartenenza, però più piccola, ma appunto in un'unica UTI. Questi punti di forza sono elencati nella delibera e quindi non sto a ripeterli. Il detto piccolo e bello non va più di moda. Ormai la dimensione conta molto nella gestione di determinati servizi, almeno fino a certi livelli, a certi limiti. Nel caso delle UTI, ma non solo, la parola dimensione è uguale a economia. Va bene quindi incominciare con l'UTI unica, ma anche pensare alla fusione dei comuni. Il collega Salvador riprendeva un po' questo concetto. Scusate, desideravo che l'assessore Mazzer però ascoltasse perché... Quindi dicevo, va bene incominciare con l'UTI unica, ma anche pensare appunto alla fusione dei comuni. Il collega Salvador poco fa ne parlava e devo dire che la norma, cioè l'articolo 8 appunto della legge, che prevede che la Giunta approvi annualmente il programma delle fusioni dei comuni. Quindi c'è già una previsione, ma dice anche che questo programma è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressioni del territorio. Quindi io credo che tutti gli attori in scena, di scena, nella politica locale, appunto regionale, comprese istituzioni varie, possono fare delle proposte, così come noi questa sera, su iniziativa dell'assessore, stiamo facendo. A supporto di questa tesi vi è uno studio recente del Ministero dell'Interno, pubblicato nel mese di febbraio del 2015, che dimostra, in questa tesi mi riferisco alla UTI unica, che dimostra l'utilità di ipotizzare processi di razionalizzazione della spesa, che possono liberare risorse a vantaggio delle collettività locali, attraverso l'incentivazione dei processi di accorpamento e diffusione tra i comuni, appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, proprio al fine di superare l'inadeguatezza dimensionale di talienti, quello che in sostanza ha detto anche l'assessore nella presentazione del suo lavoro. I comuni più piccoli non ce la possono fare più, hanno sempre più difficoltà a chiudere i bilanci, e questo lo vediamo ormai ogni giorno. Le alternative quali sono? Aumentano le tasse o riducono i servizi e gli investimenti. Ma ciò comincia a riguardare non solo i comuni piccoli, ma anche quelli di dimensione più grandi. Questo studio prende in esame i dati, quindi stiamo parlando di studio e quindi di dati certi, mi riferisco al consigliere Dalmas, che prima diceva appunto dello studio fatto da questo lavoro fatto dall'assessore, che non ha solo teoria, ma che non ha appunto dei dati certi, dei punti di forza. Lo studio di cui vi sto parlando appunto, riprende i dati riportati nei certificati di conto consuntivo dei comuni relativi all'anno 2013, ed esattamente sono stati presi in esame 7.236 comuni su un totale complessivo di 8.093, e disaggregati nelle 12 fasce demografiche. Sono quelle definite dal testo unico degli enti locali, che vanno da 0 a 500.000 abitanti. Gli effetti di questo studio sono che vi è una forte riduzione, e potete naturalmente andare a guardarlo, perché sono dati pubblicati, sono dati, come dicevo prima, dati certi. Vi è una forte riduzione delle diseconomie di scala, che caratterizzano in particolare gli enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, e minore spese di personale, riallineando le dotazioni organiche al rapporto medio per abitanti dei comuni appartenenti a fasce di maggiore dimensione demografica, come è il nostro. Lo studio poi prende in esame anche la situazione delle fusioni di comuni già approvate, già esistenti in Italia, distribuite per regione, e che riportano una serie di dati che sono dati i cui risultati sono solo aspetti positivi in termini di spesa e di servizi. Quello che è stato replicato con lo studio di cui stiamo parlando questa sera. I motivi però per i quali è più utile costituire un'auto unica sono anche altri. Allora, la gestione delle materie di area vasta, come è già stato detto. Poi, l'importanza del ruolo e del peso politico della UTI pordenonese, perché venendo meno alla provincia, il confronto con la regione sarà affidato appunto alle UTI. Più piccole saranno, meno autorevolezza avranno. Le UTI piccole o i comuni che non aderiranno lo faranno solo, secondo me, per mantenere piccoli centri di potere, non per dare più risposta ai cittadini. Un altro aspetto positivo è quello che la presenza dei subambiti, come previsti, garantirà una migliore gestione delle competenze loro affidate, tenendo conto anche delle caratteristiche territoriali. Quello che già oggi funziona, funziona bene, non verrà smantellato. Questa era la paura di qualcuno. rimarrà e sarà messo a disposizione degli altri in termini di competenza e professionalità. Rischi. I rischi ce ne possono essere, ma secondo me sono rischi pochi e calcolati. Potrà risentirne un po' la qualità dei servizi in quei comuni, in quegli ambiti, che già funzionano meglio, ma lo sarà, secondo me, solo inizialmente. Poi, come dicevo prima, la competenza e la professionalità messa a disposizione degli altri eleverà il livello di servizi, appunto, resi ai cittadini. Un'altra risposta contenuta in questo lavoro, secondo me, è quella dell'utilizzo del personale della provincia. Oggi si chiede che fine faranno. Io conosco alcuni colleghi che vi lavorano, e, appunto, è una domanda ricorrente. Secondo me, una parte, ma non solo secondo me, ma secondo la legge, secondo quello che è stato così oggetto di discussione in seno alla Giunta, una parte, Giunta regionale, una parte potrà seguire le funzioni stesse, così come verranno affidate. Un'altra parte potrà essere assorbita dall'Uti unica, perché per funzionare, abbiamo visto, dallo studio serve un certo personale, e un certo numero di personale naturalmente qualificato. Quindi, in definitiva, secondo me, le Uti potranno essere una opportunità se i comuni che ne faranno parte metteranno insieme obiettivi simili, capacità ed esperienze. Quindi, pesando alla fine tutto ciò, secondo me, considerando gli aspetti positivi che sono tanti e quelli negativi che sono pochi, tutti trarranno vantaggio dall'Uti unica o, quantomeno, la loro riduzione. Grazie. Grazie, Consigliere Martino. Consigliere Piccin, prego. Grazie, Presidente e colleghi. Grazie a tutti, ma non mi aspettavo, non avendo io per un problema di lavoro partecipato all'HP Gruppo e questa discussione sull'Uti, tant'è che ho fatto una telefonata all'assessore... Ari, prego. No, no, ma sono messa male, sono qua per caso stasera, fisicamente, purtroppo. Questa è un'altra... Non si direbbe, invece è così. Allora, dicevo che questa discussione sulla... cioè, questa idea, insomma, dell'Uti unica è arrivata un po', come dire, come un fulmine a ciel sereno per chi non sapeva che l'amministrazione stava già lavorando insomma, da qualche tempo perché personalmente io in Consiglio regionale mi sono astenuta rispetto alla legge di riforma degli enti locali, no? Ma non per fare, per tenere una voce fuori dal coro perché mi volevo distinguere, ma semplicemente perché io dico la verità quando non sono in grado di comprendere, di capire fino in fondo dove si va a parare è legittimo, credo, no? Perché chi non governa non riesce alcune volte anche quando governi non riesce a capire fino in fondo però, insomma, credo sia legittimo e insomma mi sono astenuta. Quando poi ho visto questa posizione anche questa probabilmente legittima da parte dell'amministrazione di Pordenone di fare delle osservazioni e rivedere così come prevede la normativa le cinque uti previste dalla delibera di giunta regionale dalla delibera di attuazione e sono rimasta un po' sorpresa. Sono andata mi è venuto in mente sono andata a ripercorrere un po' le discussioni che si fanno anche in questo Consiglio Comunale e mi sembrava fosse passato più tempo invece non è passato tantissimo tempo e pensavo che la discussione che abbiamo fatto il 16 giugno del 2014 fosse una per su iniziativa del collega Giannelli era una mozione che parlava di un sacco di cose di spending review e di città dei centomila abitanti emendata poi in qualche modo o integrata adesso qui ho l'atto da un ordine del giorno della maggioranza con firma Fiume Partito Democratico Vivo Pordenone il Ponte non solo ma comunque anche Lista Civica del Ben e anche Nuova Pordenone in qualche modo voleva credevo andare ad anticipare una discussione che poi si sarebbe fatta in consiglio regionale sulla città su questi ambiti e noi qui abbiamo passato un bel po' di tempo a disquisire sulla città dei centomila che mi sono resa conto essere di colpo superata perché adesso da cento passiamo a trecento qui per la verità si parlava di unioni di comuni non voglio mescolare le carte beh ma la filosofia caro collega Salvador beh rilassati perché io ti ho ascoltato con calma e quindi adesso io dico la mia non ho confuso di fatti ho specificato allora già allora c'era qualche problema parlando con qualche collega sempre consiglio regionale su queste unioni di comuni perché non so se voi lo sapete ma Roverello non è mica d'accordo non era mica d'accordo quella volta non so se adesso è d'accordo faccio un passo avanti ho detto questa cosa per evidenziare che spesso e volentieri rispetto ad un quadro che credo fosse propedeutico mi viene da pensare rispetto a questa legge e poi questa delibera per quello prima ho fatto la domanda assessore no come mai era maturato questo discorso lei mi ha detto perché abbiamo visto abbiamo messo le mani in questa cosa e abbiamo capito che qua si va a creare un ufficio complicazioni affari semplici questo in soldoni no ecco allora io rimango un po' perplessa rispetto a quello che arriva qui questa sera anche perché ripeto forse chi quello che ho detto l'altra volta e forse qualcun altro che mi ha anticipato è legittimo ed è giusto fare le osservazioni ma guardate che credo che o la riforma degli enti locali in consiglio regionale è stata fatta in tempi troppo stretti e non ha dato così come l'avevamo peraltro detto perché a settembre quella della sanità a ottobre primi non so quando era l'altra poi non guardate la data di dicembre perché quella è l'entrata in vigore primi di novembre non so quando era quella degli enti locali quindi queste sono riforme importanti che dimostrano qui questa sera che probabilmente avevano bisogno di maggiore approfondimento prima o di maggiore consultazione forse almeno con il nostro comune o con il nostro capoluogo con la nostra città che funge da capoluogo e come è stato detto qua stasera finalmente noi tiriamo sulla testa e diciamo quello che vogliamo fino in fondo ma non lo so guardate perché io mi sono presa la briga di chiedere un po' in giro e ho raccolto pochi perché non appartengo ad una forza politica come dire che può permettersi di alzare il telefono anzi non appartengo a nessuna forza politica e proprio per questo motivo ora e come dire mi sono permessa di chiedere e le risposte che ho avuto a parte un caso dai sindaci perché lei assessore ha parlato che vi siete incontrati con i segretari comunali giustamente dal punto di vista tecnico avete elaborato ma io credo che prima o assieme o in contemporanea al punto di vista tecnico ci vada anche quello politico perché se noi vogliamo fortemente questo e gli altri 40 comuni non lo vogliono lei capisce che tutta questa discussione che noi andiamo a fare e si allineano rispetto non vorrei dover come dire difendere Panontin qua stasera che non è assessore come dire non sono passata in maggioranza però obiettivamente le argomentazioni che portano i sindaci e ne sottolineo alcune sono quelle caro Martino non di rivendicazione di piccoli centri di potere ma di identità territoriale cioè il sindaco è il sindaco del suo territorio e io vi voglio vedere a convincerli tutti e 50 a come dire costituire l'Uti Unica allora rispetto a questo poi prima di approvare questa delibera esiste il consiglio delle autonomie locali no allora dico aspetta che vediamo se almeno lì erano d'accordo rispetto perché voi vi siete espressi rispetto a quella delibera e lei assessore Mazzer per il comune di Pordenone dice si evidenzia come la riforma offre la possibilità di una costruzione dal basso delle aggregazioni mentre in passato molte volte ci si è lamentati perché le scelte venivano calate da lato benissimo perfetto mettendo in difficoltà specialmente i piccoli comuni si ritiene che la possibilità di avanzare proposte di modifica da parte del territorio costituiscono opportunità sì ma voglio dire lì magari era troppo presto ma bisognava dire guardate che noi abbiamo proprio tutta un'altra idea avete votato a favore avete votato qua non votavate la legge qua votavate questa delibera che vi diceva che il territorio andava diviso in cinque uti il comune di Prata invece dice di no che è presente e dice molti passaggi destano perplessità perché l'obbligo dell'adesione fa una decurtazione del 30% sarebbe necessario conoscere l'aspetto economico finanziario il comune di Magnago dice sì io sono d'accordo ma ci sono sempre aspetti finanziari dubbi sui quali dobbiamo ancora discutere il comune di Montereale Valcellina insiste e dice ok ma salvaguardiamo la questione dei territori omogenei ora come andremo noi a mettere insieme e a garantire così come faceva riferimento all'articolo 4 secondo comma prima il collega Dalmas l'omogeneità dei territori facendo riferimento all'Uti Unica rimane è e rimane un mistero io non la faccio tanto lunga dico che in consiglio regionale a rafforzare la posizione della norma che come dice lei giustamente non va ad identificare la norma la legge dice come deve essere fatto esiste un ordine del giorno della maggioranza che dice che devono sarebbe opportuno auspicano una proposta di piano di riordine anzi impegna la giunta regionale a fare un piano di riordine che oltre al rispetto dei criteri generali esplicitamente previsti in norma valorizzi fatte salve le modifiche e qualche eventuale eccezione cioè il fatto che qualcuno si possa associare la consolidata esperienza degli ambiti sociosanitari allora guardate io non lo so se l'Utiunica è quello che riconoscerà il ruolo di capoluogo di provincia ad una città che l'ha esercitato poco in parte non l'ha esercitato adesso che la provincia non esiste più so solo che rispetto a quelle che sono le indicazioni politiche che o comunque le approvazioni politiche dello stesso colore politico riscontro una schizofrenia di fondo non ultima la nota di questa mattina dell'assessore Panontin che non dice come l'altro giorno è poco opportuno rispetto al discorso della legge fare un'Utiunica è transciante e dice sostanzialmente leggetela e in internet questa cosa non sa da fare per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda io questo provvedimento non lo voterò non lo voterò proprio non è che non voterò contrario mi assenterò dal voto non lo voterò perché ha i feedback che ho dal territorio non mi permettono sono pochi e non mi permettono di dare un voto sono qui è il primo prego sì ma io guardi non rappresento la mia comunità calpestando le altre non lo voglio fare non lo voglio fare perché se io sento dieci sindaci e quei dieci sindaci nove sono contrari per me questa iniziativa può essere a risparmio finché si vuole ma capisce assessore che a me l'Utiunica di Pordenone costituita con i centomila o con i cioè non mi cambia molto perché non ho in questo momento la possibilità di valutare gli effetti il suo studio assessore io lo apprezzo però lei capisce che mi sembra molto strano che chi ha proposto la norma in consiglio regionale non abbia fatto quei conti e non abbia visto fino in fondo che così facendo si dovevano si sarebbero avuti risparmi quando abbiamo provato la norma sulle province Panuntin diceva 30 milioni di euro di risparmio lei capisce allora è difficile prevedere queste cose io per la mia formazione non perché qui non rappresento la città di Pordenone qui rappresento la città di Pordenone certamente non sono assolutamente convinta del fatto che votando la UTI unica farò un buon servizio alla mia città ecco perché non avendo sufficienti elementi per poter valutare in senso positivo e in senso negativo non mi esprimerò con il voto grazie grazie consigliere Picini consigliere del e ci troviamo all'ordine del giorno un parlare di UTI cioè uno dei momenti applicativi di una riforma che due anni fa quando tutti vivevamo e auspicavamo aria di cambiamento specialmente in sanità e in autonomie locali abbiamo dato fiducia a una proposta politica che si sintetizzava nell'affermazione due sono i pilastri nel quale si vuole strutturare la regione la regione e i comuni quindi questa era la scelta dei due livelli istituzionali importanti dopodiché nell'anno del 2014 è stata approvata una legge ad hoc dove sui contenuti di questa legge si potevano leggere relativamente ai comuni elementi positivi quali associare collaborare integrare non obbligatoriamente fondere ma stimolare questo affaro favorire la partecipazione tenere conto dell'identità e delle culture salvaguardare l'ambiente il territorio e trovare dei giusti livelli di governo allora questa è una legge sicuramente positiva e la giunta regionale virgola all'unanimità virgola con il parere favorevole del consiglio dell'autonomia locale il 4 di febbraio ha approvato una legge scusate una delibera una delibera che dava dei contenuti di per sé vedeva il mosaico regionale centrato su alcune aggregazioni per dire comunali territoriali e queste erano 17 e questa proposta della giunta regionale teneva conto di aspetti storici e socio-economici teneva conto di obiettivi strategici del piano del riordino territoriale elementi positivi e come diceva la consigliera Picin prima anche di un ordine del giorno nella quale veniva accolta la proposta di tener conto che queste perimetrazioni fossero in qualche modo espressione delle aggregazioni dei comuni nella costituzione degli ambiti socio-assistenziali volendo anche ci aggiungiamo praticamente la dimensione dei distretti sanitari e proprio su questo elemento per cui si dice almeno 40.000 abitanti non più di 100.000 che è la dimensione giusta per dare servizi sanitari sociali assistenziali integrati c'è la proposta che il friulio occidentale possa avere una uti di 40.000 abitanti quella del tagliamento a destra 53.000 quella delle dolomiti friulane 61.000 quella del livenza 60.000 quella del sile e 94.000 la nostra del noncello quindi una suddivisione di questo territorio dei friuli Venezia Giulia in un'ottica di cardini regione e comuni vista insieme che ha nel consiglio regionale che abbiamo votato e che ha avuto la maggioranza un'espressione attraverso una formulazione della legge 26 del 2014 allora mi sembrava e ci sembrava giusto ad alcuni consiglieri che sono oltre a me Loris Pasut dottor Cermet e Sonia Daniello di presentare un ordine del giorno che tenga conto della sostanza e dell'indirizzo di come questa norma sia coerente con e allora questo ordine del giorno dice il consiglio comunale ritiene coerenti i contenuti della delibera correlativo allegato numero 180 adottati in data 4 febbraio 2015 dalla giunta della regione autonoma a Friuli Venezia Giulia avente per oggetto legge regionale 26 2014 articolo 4 adozione della proposta di piano di riordino territoriale quindi questi contenuti coerenti con l'obiettivo di realizzare una qualificata riforma degli enti e delle autonomie locali io mi sento in tutti i sensi ben rappresentato dai componenti della giunta regionale che hanno adottato questa delibera che è in esame come altrettanto mi sento ben rappresentato nella sua collegialità dal consiglio delle autonomie locali in questo modo io penso che il consiglio comunale di Pordenone ribadendo fiducia aggiunta a consiglio di autonomia locali possa fare la scelta migliore che può fare Pordenone nel Friuli Venezia Giulia grazie consigliere del ben consigliere Daniello prego sì grazie allora questa sera stiamo assistendo all'evoluzione naturale di della legge della nuova legge di riforma costituzionale e quella regionale della riforma degli enti locali che evidenzia drammaticamente l'impotenza delle opposizioni siamo quindi tutti in balia dei giochi dei tatticismi che permettono alla maggioranza di governare e sfumano le ragioni delle antitesi rimanendo in superficie però solo i lamenti ovvero i sempre più inverosimili propositi di rivalsa opposizioni così non vinceranno mai se non entrano nella sostanza delle cose e dei citadini avanzeranno sempre più pretese a diritto di pratiche di strumenti di partecipazione perché si sentono sempre più distanti da una politica che non risponde alle loro esigenze e ai loro bisogni siamo in un periodo di crisi è vero e da qui o si torna indietro o si va avanti e si va avanti solo se siamo all'altezza con nuovi progetti e nuove idealità con la riforma del Rio cosa è successo? il governo ha deciso di tagliare risorse a tutti regioni e in modo drammatico alle province di tagliare le province con effetti devastanti quando si tagliano uno, due o tre miliardi di euro alle province e si azzerano i tributi che per costituzioni devono essere garantiti a tutti gli enti territoriali non si fa riforme si fa il deserto secondo me ci si illude visto la fine delle province che uno stato moderno possa reggere la sfida che si ha davanti con una configurazione di stagio centrale e municipale nessuna nazione regge senza una cultura moderna dell'autonomismo e del decentramento per le portate e l'entità delle trasformazioni evolute e cercate bisognava riflettere e non correre fermarsi a pensare e confrontarsi si è preferito correre e siamo arrivati qui Pordenone vuole una UTI la regione ne vuole 5 o ne ha proposte 5 voglio pensare che le UTI sono siano una parte di un progetto molto ambizioso a lungo respiro con la logica della condivisione della partecipazione della mediazione della capacità progettuale della visione politica su base sperimentale per dieci anni le UTI sono sperimentali e le 5 UTI disegnate rispondono ad esigenze territoriali e a logiche identitarie visto che trattasi di sperimentazione iniziamo dal piccolo dico io da 5 UTI e poi riportiamolo non è una beh ma cosa dice la regione questo dieci anni di sperimentazione beh tagliamo anche la sperimentazione allora l'ha scritto la regione assessore non io di sicuro con Pannonting e con una maggioranza PD credo no? sì e io faccio la mia proposta con la mia testa boh ognuno è come sì ma credo che sia legittimo che io faccia il mio intervento senza che lei ogni volta intervenga o interrompa o risponda o ribetta insomma ogni volta allora le consiglio di leggere visto che nell'altro consiglio il sindaco aveva già consigliato di leggere un piccolo libretto io invece le consiglio di leggere un piccolo brano di Bertrand Brecht se i pescicani fossero uomini lascio a lei la bella lettura per capire che cosa voglio portare ad una considerazione la legge è così designata come progetto ambizioso con un nuovo riassetto dei trasferimenti legati non più al budget e non più al vincolo ma a budget ma anche perché si mette mano all'apparato tecnico burocratico a ragione degli enti locali a oggi molte preoccupazioni per le UTI e considerare un'unica UTI per me è ancora mi arreca ancora molte più preoccupazioni il mio sforzo è dare sì fiducia ma non credo sia utile cambiare tutto di nuovo per non cambiare alla fine forse niente ho molte preoccupazioni per la riallocazione del personale e per la riformulazione formativa delle persone che tanto dipenderà dalla forza di attuare il comparto unico ma dipenderà tutto anche dal regolamento e da cosa vogliamo per il futuro di questo territorio e da rispetto verso tutti i comuni le 5 UTI hanno una dimensione credibile e 5 UTI hanno e devono avere forza contrattuale per il proprio territorio appropriandosi con il direttore di coordinamento che avrà una forza e una regia appunto orizzontale non tanto per la grandezza delle UTI ma per la capacità politica che è rappresentata dallo statuto e dalle capacità politiche del direttore che non deve essere un grande manager ma una persona che ha la capacità di relazione di mediazione di interlocuzione e di soprattutto di relazione personale non prendiamoci in giro sempre con questo ennesimo racconto del risparmio risparmi ce ne saranno perché dobbiamo farli ci hanno tagliato le risorse e quindi ed è per quello che ho accolto e firmato l'ordine del giorno insieme al dottor del Ben e agli altri consiglieri grazie grazie consigliere Daniello consigliere Franchin prego grazie signor presidente io sarò brevissimo ma vorrei semplicemente motivare perché questa sera voterò sì a questa a questa delibera dunque io penso che questo sia un passaggio per niente poco importante della nostra vita comunitaria non di questo consiglio non di Pordenone io penso che sia un passaggio importante per la vita comunitaria di questo paese penso che il progetto che si ha in testa che anche l'assessore che l'amministrazione ha cercato di in qualche modo di farci capire io non so se l'ho capito fino in fondo però ho la sensazione che ci si trova di fronte a una progettualità che vuole rivedere il sistema dell'ente locale nel complesso e cioè parte bene ha fatto l'assessore stasera partita dei costi io non penso che la finalità sia il risparmio io non voterò questa cosa perché la finalità è il risparmio e penso che una dei passaggi sarebbe l'aumento della spesa come a un certo punto si poteva anche capire perché la finalità è cambiare il rapporto tra cittadini e Stato tra cittadini e chi governa tra comuni e chi governa tra dipendenti pubblici e chi in qualche modo gestisce l'organizzazione del lavoro del pubblico io sono dipendente pubblico e penso che uno dei grossi problemi di questo paese sia rivedere l'organizzazione dei lavoratori del pubblico e penso che questo sia un mezzo per offrire più efficienza ed efficacia su quello che devono essere i servizi che si danno al territorio quindi il primo punto che mi porta a votare questa delibera è che si è parlato di risparmio ma soprattutto di spesa cioè non si fa una grande revisione una grande riorganizzazione se non spendendo se non investendo chiunque pensi di contrario vuol dire che sottovaluta i processi e quindi io penso che al primo posto metterei quanto investiamo su questa cosa al secondo metterei che l'unione dei comuni è un mezzo per cambiare l'organizzazione e di questo abbiamo bisogno valorizzando quello che è stato per decine di anni la figura del dipendente pubblico ma che ha bisogno in questo momento di cambiare cioè io penso che attraverso questa cosa venga data risposta a una grande esigenza del mondo del pubblico del mondo del lavoro pubblico che è quello di cambiare di rimettersi in gioco e questo è il modo è uno dei modi io lo voterò per questo motivo quindi perché ci sarà un investimento di spesa perché offriremo alle persone una dignità diversa secondo me dentro l'ambito del lavoro pubblico da sempre così immaginato in questo paese come una delle sedi in cui poco si produce invece io sono convinto che il pubblico è dove si produce bene ma si può produrre meglio e in questo momento la necessità di rivedere l'organizzazione complessiva è necessaria e questo può avvenire attraverso questa riorganizzazione degli enti locali che si chiama UTI al terzo posto io metterei che in questo modo si supera la centralità del comune cioè io sono da sempre sento sentire che in comune arriva tutto no? arrivano le proteste le proposte ma i comuni devono anche essere rappresentativi cioè arriva tutto nel comune di mille abitanti arriva tutto nel comune di 10.000 e sembra che l'organizzazione complessiva passi attraverso tutto quello che passa dentro queste rappresentanze di mille o 5.000 o 10.000 beh io sono convinto che in questo momento questa delibera propone il superamento della centralità del comune ma diventa la centralità la comunità e ci penso che il passaggio non sia rilevante e quindi per questo voterò di sì a questa proposta che fa l'amministrazione e sono convinto che i cittadini siano maturi per fare il passaggio dal riferimento del comune centrale centralizzato finalizzato fideizzato meglio a la partenaria a una comunità più vasta e che quindi questa è l'occasione che abbiamo io non riesco a elaborare analisi tecnico-amministrative come ho sentito grazie 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 consigliere bianchini grazie presidente come fiume vado a completamento dei nostri interventi nel senso che gli interventi del consigliere salvadore e l'ultimo del consigliere franchin io porto l'ultimo mio tassello a questo ragionamento e anzi ringrazio l'assemblea perché fino adesso ma sicuramente anche dopo questo dibattito questa sera è stato sicuramente proficuo a confronto di altri avuti qui dentro quindi è utile ringrazio l'amministrazione la giunta per aver portato questo argomento all'ordine del giorno e a completamento dicevo perché in questi ultimi mesi insomma è da diverso tempo che si parla dell'ultimo mese in realtà dell'Uti Unica piuttosto che dei Cinque la difficoltà che ho sempre trovato nell'affrontare questo ragionamento con la gente è stata quella che qualcuno qui ha già ventilato ovviamente e giustamente è l'uguaglianza Uti Unica uguale provincia quindi cosa è servito togliere la provincia e adesso in questo momento riproporre l'Uti Unica ecco io credo che ci sono tre io così almeno ho interpretato spero di averlo fatto correttamente ma è quello che ho capito sono tre le motivazioni sicuramente uno discorso che forse va alla pancia della gente ma che è utile anche in questo periodo cioè il costo della politica i politici pagati non ci sono più perché da quanto ho capito e penso che sia corretto insomma sono l'assemblea dei sindaci che poi prende in mano l'organizzazione delle Uti in questo caso la proposta è l'Uti Unica al suo interno poi c'era un presidente eccetera eccetera quindi questo è il primo dei motivi che per me non è quello più importante ma ovviamente forse è uno di quelli che mi interessa e quindi che non ci sono i costi della politica che a differenza la provincia prima aveva il secondo passaggio che invece è importante è la differenza delle funzioni che la Uti in questo caso secondo la nostra proposta Uti Unica avrà e cioè molte più funzioni molto più importanti delle funzioni che prima aveva la provincia questo è fondamentale per se si vuole capire il passaggio da Uti A5 a Uti Unica avere delle funzioni così importanti equivale a superare ad innovare l'idea di provincia che c'era prima e il terzo secondo me altrettanto importante è il ruolo dei sindaci prima la provincia aveva una sua presidente una sua giunta eletta e quindi di colore politico e con i consiglieri provinciali anch'essi di colore politico che per quanto sicuramente ottemperavano alle esigenze del territorio più di qualche volta ci siamo anche noi stessi confrontati nel dire beh forse molte scelte non sono sempre state ponderate per la cosiddetta comunità di cui parlava adesso il consigliere Franchin e invece in questo momento questo cambia perché l'assemblea dei sindaci che sarà che è l'organo alla fine politico amministrativo è l'organo che poi prende l'indirizzo politico in questo nuovo organo l'Uti Unica è formato quindi proprio dai 50 sindaci i quali sanno bene le esigenze del territorio e i quali andranno oltre il colore politico a cui appartengono e questa è la cosa fondamentale un organismo un organo l'Uti Unica che a quel punto andrà proprio a toccare e a risolvere i problemi concreti della comunità ed è il passaggio che faceva adesso il consigliere Franchin e quindi si supera quel campanellismo per andare proprio a toccare la comunità a portare a risolvere le istanze della comunità questi sono secondo me i tre principi chiudo dicendo perché non serve poi fare ovviamente a quest'ora come si chiamano dichiarazioni di voto lo dico subito che il fiume ovviamente voterà a favore perché perché riprendo le parole del consigliere del BEN noi ci sentiamo ben rappresentati dalla giunta regionale voteremo questa proposta della giunta di Pordenone perché sì ci sentiamo assolutamente rappresentati molto bene dalla nostra giunta regionale la quale ci ha chiesto un parere e a questo parere noi rispondiamo con questo documento a cui noi abbiamo cercato come maggioranza di dare un contributo più politico possiamo dirlo così insomma che chiediamo di prendere come allegato insomma di farne tesoro e come ultima dichiarazione insomma io credo poi questo aspetta l'amministrazione però anche l'ordine del giorno no ordine del giorno scusate l'emendamento affirma primo firmatario Giannelli noi siamo anche decisi anche d'accogliere se all'amministrazione questo va bene insomma se all'aggiunta va bene quindi il fiume voterà a favore sia della delibera rappresentata dall'aggiunta Pedrotti e anche dall'emendamento ovviamente ascoltiamo l'amministrazione grazie grazie consigliere Bianchini consigliere Freschi prego grazie presidente allora prendo la parola per integrare qualcosa che già è stato ampiamente presentato dal consigliere Salvador nel momento in cui ha presentato quel documento unico frutto del lavoro tra la lista civica il fiume e la lista civica vivo Pordenone noi abbiamo cercato di semplificare un po' il nostro ragionamento attraverso un documento che riportava tutta una serie di ragioni per le quali sosteniamo che l'utile unica sia lo strumento più consono a diciamo a governare il momento che stiamo che stiamo vivendo che stiamo passando si è parlato della provincia si è parlato ma perché si fa questo quando in pratica c'era la provincia che poteva fare quello che viene fatto con l'utile ecco io penso e io sono sempre stato un sostenitore della provincia per cui non mi corre nessun problema a fare delle sottolineature a riguardo la provincia era un ente che andava in qualche modo riformato o si riformava l'ente o si percorrevano strade nuove in un momento particolare della storia del nostro paese dal punto di vista economico e finanziario si è pensato anche che bisognava creare delle economie di spesa e le si è fatte anche attraverso la razionalizzazione degli enti la provincia è ancora in piedi non sappiamo ancora quando rimarrà però si è cercato di individuare in un ente una prima razionalizzazione di spesa però la razionalizzazione di spesa deve andare di pari passo anche con la riforma di quello che si andrà a fare e questo è il succo del discorso è questo il punto cardine del ragionamento che ruota attorno alle UTI la regione ha legiferato nel merito però la regione anche ha lasciato uno spazio perché nel momento in cui nel suo deliberato ha deciso di lasciare 60 giorni di tempo alle amministrazioni comunali per poter entrare nel merito di quanto aveva deliberato penso e sarebbe stato veramente un eludere il problema penso che abbia dato lo strumento ai comuni per ragionare su un qualcosa ognuno può avere la propria opinione ognuno può vedere le cose dalla sua angolatura ma certamente di fronte a questo fatto i ragionamenti andavano in qualche modo proposti la regione ha semplicemente calato sul territorio quella che era già un'esperienza cioè quella degli ambiti ma l'esperienza degli ambiti è l'esperienza nel campo sanitario mentre le UTI sono un organismo che deve dare servizi e noi non possiamo pensare che i servizi non siano dei servizi di area vasta che vanno a coinvolgere in qualche modo le politiche del territorio io non sono d'accordo con i quali sostengono tecnicamente che le UTI risolvono o assolvono a problemi di tipo tecnico cioè quello di conferire dei servizi le UTI sono per forza di cose degli strumenti programmatori perché è impossibile pensare che le UTI si fermino ai confini attuali degli ambiti pensiamo solo a un discorso di viabilità è impossibile ragionare in termini di cinque comuni per quanto riguarda l'ambito cosiddetto del noncello oppure altri tipi di problematiche che sono sul campo lo stesso discorso riguarda l'istruzione superiore e via dicendo allora io penso che ci viene dato uno strumento uno strumento importante questa sera il dibattito lo ha dimostrato possiamo avere anche posizioni diverse ma penso che il comune capoluogo al quale molto spesso si fa riferimento dicendo che non è in grado che non ha sviluppato nel passato politiche unitarie che non ha cercato un'unità di tenti su determinati problemi penso che questa sera un'opportunità viene data e l'opportunità è quella che questo consiglio esca il più unito possibile su questo tipo di determinazione poi sarà la regione che farà i suoi ragionamenti finali non è nostra potestà imporre niente ma è nostra potestà dare un'indicazione il comune capoluogo pensa che questa sia la strada più corretta ma vorrei aggiungere un particolare perché il comune capoluogo perché il comune capoluogo nell'ambito del territorio provinciale è il comune che è più abituato degli altri ad erogare dei servizi in quanto i cittadini di questo territorio provinciale per buona parte vengono in città per motivi di lavoro per motivi di studio per motivi commerciali e via dicendo per cui di fronte a questo il comune capoluogo è colui il quale in qualche modo si è trovato più spesso a dover erogare servizi per cui al problema deluti si approccia con una mentalità completamente diversa da quella che è la periferia è una mentalità che è quella di dare un qualcosa di mettere in comune un qualcosa e penso che questa sia la linea di demarcazione con il territorio cioè riuscire a capire che qualcuno sta facendo qualcosa e qui viene a decadere quello spirito quella preoccupazione che viene dai territori magari più piccoli di sentirsi in qualche modo prevaricati quando si parlava di ambiti in questo consiglio io ho sostenuto più volte che il modo di affrontare i problemi non deve essere quello di Pordenone che vede il problema ma deve essere visto con l'ottica di San Quirino che è il comune più piccolo di fronte al problema se noi ragioniamo in questa maniera riusciamo a rovesciare il concetto dell'angolatura dalla quale affrontiamo le problematiche ecco questo è lo spirito con cui l'uti unica deve essere costituita nel senso prego consigliere Dalmas io l'ho sempre ascoltata con molto rispetto per cui lei le sue considerazioni le faccia pure le sue aringhe le faccia pure ma lasci parlare gli altri grazie pertanto non aggiungo altro penso che tra l'altro venivo incontro all'emendamento che avevate presentato voi perché mi pare una cosa saggia e corretta perché poi penso che l'amministrazione lo accolga per cui spero che anche le parole che dice il sottoscritto siano accolte benevolmente dai consiglieri di Forza Italia che hanno sempre qualcosa da ridire e pertanto ritengo che con questa con l'approvazione di questo documento si faccia a parte il consigliere Cabibo che in genere è molto corretto si faccia un ragionamento che va veramente nel senso di riconoscere di riconoscere nel territorio unico lo strumento per poter fare delle politiche anche programmatorie che in qualche modo hanno una visione di prospettiva una visione un po' più lunga e una visione di coinvolgimento per cui il nostro voto sarà certamente favorevole grazie consigliere Preschi consigliere Pasut prego grazie presidente ammetto di essere un po' perplesso in difficoltà anche su su questa su questa delibera che l'amministrazione propone ho avuto modo di incontrare anche l'assessore Marzeri in altre occasioni dove se ne è parlato anche e la bontà della cosa così in linea generale era buona insomma ricordo a Sicilia ne abbiamo parlato di unità territoriale però sorgono inevitabilmente delle domande e delle perplessità alle quali io in questa occasione devo in qualche maniera approcciarmi e manifestare perché se no ecco non svolgerei il mio ruolo di rappresentante della lista del ponte e la prima domanda che mi pongo è questa la giunta regionale che ha proposto questo documento sapeva che suddividendo le unità territoriali andando sotto un certo numero faceva perdere potere a città capoluogo come Pordenone nel senso che se Pordenone non raggiunge come unità territoriale i 100.000 diventa il calzino della regione e allora perché Udine sì noi no insomma e di scusa scusa abbiate pazienza adesso cerco di poi dirò anche delle sciocchezze dopo sarete voi ecco allora non ho detto che voterò contro non ho detto ancora non sono arrivato al punto dell'espressione di voto ho appena iniziato l'esposizione su le perplessità che ho su questo documento e quindi la prima domanda l'ho già fatta e lì abbiamo due rappresentanti del territorio per esempio no? sì mi pare anche autorevoli dopodiché non so se sì dal Mars se contano non contano in sede regionale allora poi parto da alcune riflessioni e da alcune letture da alcune letture sulla legge no? che sicuramente questa legge pone dei vincoli che sono da cogliere come opportunità no? perché? perché il mondo è cambiato e nulla potrà essere come prima su questo siamo d'accordo la legge costringe agli amministratori a fare scelte precise strategiche per il lungo periodo superando anche come dire il campanile insomma la legge grazie alla tecnologia cambia anche il modo di amministrare perché la tecnologia io se sono a Hong Kong riesco a mandarvi un documento ed esprimere il mio pensiero qui a Pordenone insomma la legge però pone anche alcuni aspetti chiave di riflessione che sono creare unioni fondate su intese politiche chiare e condivise frutto di analisi obiettive su omogeneità complementarità e integrazioni territoriali questa come riflessione quelle erano le opportunità quali sono le peculiarità dei territori cioè l'unità creerà sviluppo complessivamente o lascerà abbandonate e no allora cioè perché mi questa sera mi chiedete di rispondere di sì ma ci sono queste cose assessore non possiamo negarselo le persone che amministrano i territori i dirigenti per esempio saranno protagonisti di questo saranno coinvolti in questo processo perché sono poi portatori di realtà locali di come dire di realtà territoriali e poi sicuramente i tecnici delle amministrazioni si dirigenti insomma saranno coinvolti in questo in questo in questo processo queste sono sostanzialmente tre cose su cui su cui intendo riflettere dopodiché mi trovo anche in imbarazzo perché io sono quello di un'amministrazione efficace efficiente pronta trasparente no perché è necessario perché noi ci troviamo a questo punto non perché abbiamo pensato prima è la storia che ci ha accompagnati in questa situazione a dover scegliere a dover correre ai ripari perché guardate noi e noi intendo dire provincia di Pordenone siamo l'azienda più grande sul territorio ok perché come chiude Electrolux restiamo l'azienda più più grossa l'ospedale sì c'è una realtà di 750 dipendenti non so se mi spiego no provincia è comune sto mettendo insieme e sicuramente abbiamo costruito degli apparati democratici che non rispondono più alle esigenze del territorio dei cittadini abbiamo costruito dei mostri e siamo costretti adesso a correre i ripari cioè voglio dire non ci ha guidato una saggezza preventiva siamo stati costretti perché chiudono le fabbriche perché non abbiamo più soldi perché dobbiamo ottimizzare perché se no non riusciamo a gestire più la cosa quindi trovo positivo questa trovo positiva questa iniziativa sto tentando di dire che è una buona iniziativa però che mi pone dei dubbi forti insomma sul dire sì a questa delibera allora dico abbiamo sicuramente bisogno di ristrutturare abbiamo sicuramente bisogno di risparmiare di contenere i costi però stiamo attenti a non buttare l'acqua con il bambino perché io sono d'accordo sull'unità territoriale unica ma federata su sei cinque sei realtà sociosanitarie dove unitariamente cinque scusa dove unitariamente si possano gestire tre capitoli importanti il personale insomma tutte quelle cose che da Pordenone si possono gestire ma poi i territori non possono essere cancellati le storie dei territori dei comuni non possono essere cancellati non serve che lo venga a dire io che non sono nessuno bisogna considerare questa cosa qua allora è qui la perplessità sull'unità territoriale unica che cancella tutto in nome di un risparmio in nome di un'efficienza allora dobbiamo stare molto attenti al coinvolgimento di tutto il territorio di tutti i cittadini non possiamo cancellare storie così e allora io sono non riesco a dichiarare adesso il voto lo farò dopo in un secondo intervento anche perché voglio capire anche gli altri cosa diranno naturalmente siamo in difformità per cui interviene anche Francesca perché non siamo della stessa linea grazie consigliere Cardinpre terrore terrore grazie presidente voglio rubarvi pochissimi minuti perché molti dei concetti che tenevo ad esprimere li ha già espressi il consigliere Freschi molti anche il consigliere franchin che ha espresso forse il concetto al quale tenevo di più intanto voglio cominciare ringraziando l'assessore mazzere l'amministrazione per aver proposto questa delibera e per avermi stupito perché davvero non pensavo che l'avreste fatto non me l'aspettavo ed era una cosa la quale invece tenevo particolarmente tenevo particolarmente che almeno la città capoluogo a prescindere da quelle che saranno poi le decisioni degli altri comuni manifestasse l'intenzione di assumere un ruolo in questa vicenda io non sono innamorata della legge dell'assessore Panonting come consigliere Freschi tutto sommato non ero particolarmente favorevole nemmeno all'abolizione delle province però comunque prendo atto di quello che è un processo che è stato un processo che è iniziato molti anni fa questa legge mi trova davvero in difficoltà perché secondo me ha un unico vero significato che è quello di svuotare in realtà di competenze la politica che è quello di svuotare una politica che forse negli ultimi anni non ha dato una bellissima immagine però è comunque la politica che deve dare la direzione in questa legge si parla di uffici e lei giustamente Assessore Mazzer nel riorganizzare il disegno dell'Uti Unica si è occupato degli uffici del risparmio degli accorpamenti delle funzioni ma non c'è alcuno spazio per la politica se non uno spazio residuale per carità importante quanto si vuole qual è quello dell'Assemblea dei Sindaci però l'Assemblea dei Sindaci che è sicuramente un organo importantissimo perché noi tutti siamo consapevoli che è vero che sono i Sindaci quelli che più sanno leggere il loro territorio sappiamo che è così però quale sarà la possibilità davvero di coordinarsi da parte di Sindaci di diversi colori e che necessariamente dovranno rispondere alle loro amministrazioni io credo che una direzione politica invece avrebbe dovuto rimanere però è vero tutta la legislazione nazionale è nell'ottica di un cancellamento del potere della politica e questo lo si vede ha cominciato la Bassanini e poi si è andati a caduta in quella direzione per carità può essere che sia anche la direzione migliore io non lo so il consigliere Franchin ha detto una cosa molto importante alla quale io tengo molto avrebbe votato questa delibera anche se non si fosse parlato di costi perché il risparmio non è la cosa fondamentale in questo passaggio nel passaggio della UTI unica il passaggio fondamentale non è il risparmio ma il significato che può avere il significato che è stato molto ben espresso dagli altri consiglieri e che io qui non voglio ripetere io tenevo molto a che la città capoluogo a prescindere dicevo da quello che sarà poi quello che faranno gli altri comuni esprimesse questo suo desiderio questa sua vocazione di essere la città che offre servizi la città che riesce a conservare attorno a sé un territorio e un'identità del friuli occidentale io sono assolutamente favorevole all'UTI unica anche perché ritengo che nel disegno della legge regionale l'area pordenonese venga penalizzata più delle altre in questo disegno è vero tutto sommato anche nell'area di Udine vengono pensate diverse unioni territoriali e viene frazionato anche il territorio di Udine però noi non possiamo dimenticare che il territorio pordenonese è l'unico che viene frazionato fino a restare al di sotto della soglia dei 100.000 e quindi sostanzialmente la città capoluogo non rimarrebbero competenze che invece per esempio la città di Udine rimarrebbero per non parlare poi dell'UTI unica di Trieste che è obiettivamente per carità mi possono dire quello che vogliono Trieste va bene la città però ha un'UTI unica di 253.000 abitanti e qualche cosa vorrà pur dire poi nella forza che eserciterà per carità la forza è basata sulla progettualità mi si dice e non sul numero di abitanti però insomma il numero di abitanti ha sempre fatto una certa differenza io volevo semplicemente anticipare con questo intervento non solo il mio voto favorevole ma anche un ringraziamento davvero all'amministrazione per aver seguito questa strada e per aver proposto quella che è almeno da parte nostra il desiderio e la vocazione di poter condurre un processo del nostro territorio di unificazione e di mantenere unito il nostro territorio grazie grazie consigliere Cardini consigliere Del Santo prego è tardi e sarò breve premesso che sono assolutamente d'accordo con la proposta avanzata dell'assessore Mazzer quindi lo tranquillizzo immediatamente sono peraltro assolutamente d'accordo con la richiesta avanzata dal collega Pedicini fatta poi propria dai signori di Forza Italia questo credo che sia doveroso cancellare quel punto 3 che mi sembra un tentativo di stare con i piedi in troppe scarpe quindi è meglio che facciamo una scelta definitiva ben chiara e che il messaggio arrivi forte e chiaro come si suol dire anche i signori di regione tuttavia sarò molto breve ci tenevo a fare alcune considerazioni premesso appunto la mia assoluta disponibilità anzi il mio assenso totale alla proposta credo che però vada anche sottolineato che questa scelta non può essere operata partendo dalle prime slide che ci hai mostrato caro Renzo cioè i costi meno costi a me hanno insegnato che i costi sono davvero tali o qualche volta sono degli investimenti cioè se risparmiare un milione di euro significa poi mettere in crisi un sistema gestionale un'efficienza io credo che sia molto meglio spendere un milione in più e ottenere da questi quattrini che abbiamo a disposizione un risultato decisamente più efficace quindi non credo sia l'unico criterio questo per dire che molto attenti credo che per quanto riguarda il sottoscritto non può essere certo addebitata una qualche disponibilità a considerare delle situazioni spendacione molto attento ai costi ma però attenzione non può essere in questo caso l'unico parametro concludo molto rapidamente ma volevo anche sottolineare un altro aspetto in un'altra circostanza quando questa legge era ancora una proposta di legge quindi in una situazione ben diversa dal Consiglio Comunale più volte non in una sola volta scusate non in una sola circostanza ho avuto modo di sottolineare un criterio poco coraggioso da parte della Regione nel proporre e avanzare questo tipo di legge e mi riferivo e lo faccio anche in questa circostanza al fatto che sposando in pieno i metodi non solo i contenuti o non tanto i contenuti politici e le scelte politiche di Renzi ma sicuramente il metodo renziano è il mio metodo avrei voluto constatare molti più obblighi piuttosto che grandi discrezionalità a mio avviso ci sono troppe discrezionalità non può essere lasciato ad un comune il fatto di dire io aderisco di qua o aderisco di là francamente e che qualcuno non mi venga a venire a dire che servono 24, 25, 27 quanti sono i comuni dell'area montana a rappresentare gli interessi di 30.000 abitanti allora se questa è la rappresentanza e questo è il sinonimo di democrazia beh mi dichiaro decisamente antidemocratico ecco voglio dire non credo che salvare le specificità significhi difendere le careghe perché dal mio punto di vista questi sono davvero careghi fici a tutti qui non c'è né destra né sinistra da questo punto di vista mi sembra che siamo davvero tutti uguali pur di difendere poltrone divani sgabelli ma anche predellini siamo disposti a fare guerre inaudite allora io credo che forse un po' più di decisione da parte del legislatore e lasciare meno discrezionalità in questa in questa in questa proposta di legge sarebbe stato necessario io credo che la valutazione che ci deve guidare nel dare il voto favorevole spero tutti oppure non favorevole se sia semplicemente se funziona o non funziona lascerei perdere qualsiasi altro mi pare che l'efficienza da questo punto di vista debba essere un obiettivo non ho la competenza tecnica per dire se servono 5, 6 o 4 uti ma devo dire che sicuramente il fatto di pensare che una uti unica che governi 300.000 abitanti non 3 milioni di abitanti sono gli abitanti poco più degli abitanti del comune di Padova del comune di Brescia del comune di Bergamo voglio dire non stiamo parlando di metropoli ecco non credo che servino io ho sentito dire l'ho imparato che sono un parvenu della politica messo che questo significhi far politica recente tra l'altro perché l'ho imparata qui dentro ma bazzicando i consensi del partito di cui faccio parte qualcuno mi ha insegnato che di troppa politica scusate che di troppa democrazia talvolta si può morire grazie 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 del santo bene dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo intervento nessuno si iscrive pertanto dichiaro chiuso la discussione e do la parola all'amministrazione per eventuali repliche grazie grazie presidente io intervengo sull'emendamento dichiarando appunto che dal punto di vista dell'amministrazione della giunta noi lo accogliamo ma chiedevo a voi se comunque lo volete far votare questo è qualche cosa che dovete decidere questa è una domanda che vi faccio a commento del complessivo del del dibattito è un po' la sintesi è da dove sono partito cioè il fatto di accettare questo emendamento e di eliminare quindi di assumere una posizione più che precisa no? indica un po' questa volontà di è vero di fare uno uno scatto di reni di dare un senso molto marcato ad un'azione di rinnovamento degli enti locali io ho capito che probabilmente dato il tema ci si aspettava a volte l'esecuzione del tema con determinati spartiti beh stavolta siamo un po' forse non atteso diamo una esecuzione uno spartito un po' diverso ma che sta dentro nella legge allora perché non utilizzare questa questo modo di vedere l'attuazione di una sono d'accordo che questo è un momento epocale dal punto di vista della trasformazione e sono d'accordo che sia epocale proprio dal punto di vista della pubblica amministrazione siamo stati io credo non è non voglio che questo venga visto come vanto siamo stati il primo comune in cui con questo segretario abbiamo fatto un corso per far capire che cos'è il cambiamento il cambiamento alle nostre posizioni diciamo apicali ai dirigenti e alle cosiddette PO è la prima volta che questo viene fatto voi capite che è un segno del fatto che effettivamente in primis la pubblica amministrazione ha l'obbligo di vedersi in un contesto completamente diverso e di accettare e di usare questa possibilità di cambiamento questo volevo quindi grazie per per l'osservazione il fatto quindi di accettare questa questo emendamento sta proprio in questa direzione vogliamo dare un'impronta molto forte vogliamo proporre di fare un salto nel dibattito a livello della nostra provincia credo sarà comunque provocatorio questo noi crediamo anche con un certo grado di possibilità di successo certo se vedete alcune delibere che sono state fatte di adesione o no a UTI in giro per gli altri comuni a volte sinceramente mi sento un po' in imbarazzo cioè se le motivazioni sono quelle che a volte sono state esposte altro che nostro dibattito stasera se era giusto partire dai costi o era giusto partire dalla governance politica lì i temi sono stati molto specifici e fin troppo visibili dal punto di vista delle motivi per cui queste UTI potevano essere fatte io ho pensato stasera con grande orgoglio che il dibattito che noi abbiamo avuto su questa delibera questa sera nel nostro consiglio faccia veramente la differenza a livello provinciale e mi auguro che sia questo quello che poi viene fuori dal nostro incontro di questa sera un segno veramente di cominciare a non pensare semplicemente ad aspetti minimi marginali dalla raccolta dei rifiuti alla distribuzione solo dell'acqua io penso che la discussione sull'UTI e la trasformazione che noi abbiamo a livello di territorio sia basato su altri criteri di innovazione proprio quelli che noi abbiamo discorso se adesso Renzo vuole essere puntuale nel dare solo qualche decennio 3 2 1 mi concedete perché volevo che votasse a favore tutto qua no loris consigliere no perché lui ha fatto delle obiezioni anche vere importanti a Francesca Cardin consigliere Cardin arriviamo sopra i 100.000 e ci arriviamo perché viene zoppola questa è una cosa che noi diamo già per certa e per scontata no vabbè però non è non è niente perché ovviamente quello che abbiamo proposto oggi è un'altra cosa è una cosa molto più importante sapeva la regione io non lo so se la regione l'avesse saputo noi abbiamo cominciato a scoprire queste cose provandoci mettendoci no pian pianino a dire quali sono le competenze cosa facciamo di risulta di risulta perché se abbiamo votato l'altra volta una mozione dove difendiamo tutti la prefettura no e tutti siamo convinti di votare una mozione per difendere la prefettura non capisco perché non dobbiamo difendere l'unità di questo territorio dal quale poi partirebbero tutti gli elementi il crogiolo che è necessario per difendere tutto il resto di questa provincia no tutto il resto di questo territorio quindi per noi abbiamo dato una motivazione tecnica perché lo facciamo e la motivazione tecnica doveva innanzitutto dire non togliamo nessuna autonomia politica alle comunità perché con l'Uti grande si fa meglio che se non con l'Uti piccola l'Uti piccola toglie autonomia alle comunità perché accentra tutto l'Uti grande consentirà maggior autonomia maggior governance della politica sulle proprie comunità noi su questo siamo convinti abbiamo cercato di spiegarlo anche tecnicamente e di mettere un documento a disposizione degli altri comuni è chiaro che se restiamo da soli non passerà è chiaro e volevo dire anche che c'è un documento che è stato presentato che noi accogliamo c'è un punto sul quale dobbiamo apporre delle riserve che riguarda le politiche sul lavoro proprio perché andiamo sempre in conformità alla norma lì si dice che ce le portiamo via noi non possiamo proprio dire ce le portiamo via però lo trasformeremo in chi si auspica che rimangano sul territorio gestite diversamente insomma d'accordo vabbè a parte questo il documento per noi va bene lo accogliamo in toto il giorno presentati uno praticamente dice ci van bene le cinque uti e noi vorremmo tentare qualcosa di diverso per quello non lo possiamo accogliere perché vorremmo provare a fare una proposta alla regione diversa visto che ci ha chiesto un parere per il consigliere vicinato lei mi trasformerebbe quello che è una delibera su una legge che prende una posizione su un ordine del giorno che dice bisogna salvare le province che è molto meno significativo per quello lo rispingiamo insomma da questo punto di vista grazie va bene grazie dichiaro aperte le dichiarazioni di voto do la parola al consigliere vicinato prego grazie presidente il voto della lega sarà contrario a questo a questo deliberato perché in qualche modo non vogliamo ritenerci complici della dell'organizzazione complessiva della riorganizzazione complessiva data dalla legge regionale è chiaro è chiaro che dal punto di vista pratico la riorganizzazione in qualunque modo venga effettuata sarà in ogni caso una gravia di costo e un disagio ulteriore per il cittadino fatto un po' troppo spesso e in un qualche modo anche le divergenze che il PD cittadino e provinciale in un qualche modo anche ci mostra questa sera contro il PD regionale dimostra che effettivamente dei problemi all'interno della stessa concezione di territorio ci siano e siano anche abbastanza intensi è chiaro che quindi non risulta molto credibile il fatto che il presidente della provincia voti in un qualche modo per mantenere il prestigio in qualche modo all'interno di una uti provinciale che bene o male ricorda abbastanza una provincia perdendone però i pregi e aggiungendone i difetti di una uti quindi salverebbe un po' il nome ma ma esatto sappiamo bene che nessuno di noi immagina questa sera che un voto favorevole di questo consiglio comunale anche unanime farebbe cambiare idea a questo PD regionale prima considerazione su tutte perché è un voto che è un po' fatto nel deserto cioè fatto così a passant senza senza una battaglia così fatta un po' con il cuore in maniera abbastanza vigorosa invece è quasi un voto per dire l'abbiamo fatto noi ci siamo espressi contro però vabbè passa insomma ci sarà e e e lo stesso si può dire per il fatto che c'è il terzo coma del deliberato che dice però alla fine sì che c'era cioè nel senso che nel senso c'era in quel senso c'era un po' questa lo facciamo il voto però adesso è già un po' meglio infatti c'è già però non basta non tanto per colpa vostra ma quanto perché la per la la riforma generale della regione non non può essere certamente accettata un po' per l'aggravio dei costi per il casino che viene fuori e anche per la perdita di democrazia dei cittadini ricordo che l'ente provincia alla fine dal punto di vista politico costava circa un euro e mezzo al cittadino abbiamo visto che i dati da voi elencati vanno ben oltre l'euro e mezzo e quindi nella migliore delle ipotesi e quindi alla fine è una riforma peggiorativa grazie 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 consiglio appiccinato consiglio dalmas prego caro sindaco mi ha convinto no perché scusate è un po' tardi non esforiamo 5 minuti più o meno ma chiediamo subito lei ha una capacità di sintesi che ogni tanto devo riconoscerla perché ha sintetizzato in modo con poco parola quello che è successo in questi giorni i due aspetti sostanzialmente due diversi approcci che hanno diverse amministrazioni perché evidentemente queste cose le ha vissute e quindi le conosce meglio degli altri in realtà vede Assessore Mazzer lei è un uomo che si impegna un Assessore impegnato nel fare l'Assessore quindi venuto qui oggi con la delima sono tante cose addirittura la Cardin che è Assessore provinciale credo le ha riconosciuto l'importanza del del lavoro dell'impegno eccetera non entrerò di più nel merito di quello che abbiamo detto prima è evidente che tutto il lavoro che abbiamo fatto poco tanto che sia e comunque questa serata è un po' annoverabile ad una circostanza riconducibile alla montagna che in realtà più di tanto non riesce a fare partorisce il topolino sostanzialmente perché accogliete il nostro ammendamento ammendamento pedicini più correttamente perché è evidente che questa è una proposta un parere appunto questa coloro che vorranno impugnare la delibera del 4 del 2 ce l'avranno anche un po' dura per alcuni aspetti perché non è che la volontà del procedimento sia manifestata e compiuta sono atti a formazione progressiva e al di là dell'enfasi della prima parte dell'articolo 4 che dice si comunichi quello che volete fare adottato con delibera a maggioranza assoluta dei consigli comunali entro 60 giorni la regione acquisisce i parelli acquisisce i parelli ecco perché candidamente il sindaco ci ha detto siccome un po' hanno studiato e ha detto cosa succede anche se togliamo non cambia nulla lo stesso non cambia nulla lo stesso ma non cambierà nulla perché l'ha detto Mazzar al di là di un paio di comuni che aderiranno a questo forse sforeremo il tetto dei 100.000 abbiamo raggiunto il fatidico tetto dei 100.000 vecchia idea di Cardin padre la città del conurbamento dei 100.000 abitanti risolti i 100.000 non ci sono più problemi abbiamo finito basta finito tutto funziona meraviglia siamo al centro del mondo abbiamo risolto la cosa quindi l'adesione di Forza Italia il sì di Forza Italia all'emendamento sofferto da Cabibbo e il voto e il voto questa delibera destinata a cambiare volto segno percorsi tempi di quella che sarà la pubblica amministrazione sarà un voto di adesione così per quello che è una montagna che ha partorito il topolino fine della giostra perché tanto la signora Seracchiani vi dirà bene tra 15 giorni che cosa faremo di questa delibera quindi voto favorevole grazie consigliere pedicini prego grazie presidente sì le perplessità possiamo averle intanto devo apprezzo il fatto che abbiate eliminato il terzo comma della delibera e questo vi fa onore e ci fa onore a tutto il consiglio comunale perché almeno da questo punto di vista è un segnale forte che questa amministrazione ma l'intero consiglio comunale di Pordenone con forza chiede questo questo nuovo questa nuova organizzazione territoriale e quindi che è disposta all'apertura ma nello stesso tempo è convinta di quello che va a chiedere e devo dire che anche il dibattito così come si è sviluppato anche se non c'è un'unanimità porta sicuramente tutto l'intero consiglio comunale verso questa nuova prospettata nuova riorganizzazione territoriale che supera sia per quanto riguarda le aggregazioni dei comuni ma supera anche l'ente provincia li supera entrambi e tenta di portare una strada nuova e devo dire che in questa tornata amministrativa è la prima volta in quattro anni che questo consiglio comunale si trova in questo tipo di posizione è stato sottolineato da alcuni miei colleghi è in contrasto con la lezione non è in contrasto no non è in contrasto è sicuramente un passo avanti è sicuramente un consiglio comunale che diventa propositivo un'amministrazione su sollecitazione ovviamente dell'amministrazione ma va nella direzione a mio avviso positiva che questo territorio finalmente decide di autoregolamentarsi e fa una proposta concreta alla regione l'accoglierà la regione beh ma se non facciamo neanche la proposta non sapremo neanche se l'accoglie ma anche se non la dovesse accogliere c'è un fatto importante questo territorio questa proposta l'ha fatta e stasera la vota e quindi dimostra di avere delle idee dimostra di avere un progetto dimostra di avere una sua presenza immaginate se questa sera neanche la facesse la proposta staremo al punto dietro saremo lì a dover decidere qual è il lumi che accettiamo e fermarci qui ecco questo sarebbe un atteggiamento passivo di questo territorio che a mio avviso non fa onore al nostro territorio quindi nella limitazione che sicuramente ci sarà anche nel nel non accettazione l'assessore Panontina ha già detto che non è d'accordo non importa ecco io dall'opposizione questa sera sono orgoglioso di votare questa questa proposta e quindi questa delibera c'è di più non l'ho firmato perché non mi è stato neanche proposto a dire il vero ma ho letto con attenzione anche le motivazioni presentate dalle liste civiche lista civica il fiume vivo Pordenone leggo qui perché l'uti unica le argomentazioni che sono proposte l'ho vista qui questa sera sono tutte argomentazioni a mio avviso corrette che vanno a supportare la delibera di questa sera e quindi non so se si arriverà un voto anche ma penso di no è stata solo distribuita perché penso sì però bene però volevo sottolineare il fatto che le argomentazioni che vengono proposte sono ampiamente condivisibili e quindi anche se non l'ho sottoscritta materialmente l'appoggio nell'insieme per quanto riguarda l'altra è stata fatta propria gli emendamenti che vanno in contrasto con quanto ho detto ovviamente non le voterò perché bisogna essere coerenti con quanto andiamo a fare bene spero di aver detto tutto e di non aver dimenticato nessuno e ringrazio anche il gruppo di Forza Italia poi perché aveva fatto proprio ma l'aveva già proposto lo voleva proporre no no ma adesso non ci facciamo i complimenti fra di noi però effettivamente sì va bene questo sarebbe nella normalità quindi l'eccezionalità è questa che ci facciamo i complimenti grazie grazie a voi consigliere Pasut sì grazie Presidente Assessore Mazzer non mi ha convinto del tutto ma ammetto che però le riconosco che ha fatto un ottimo lavoro ci ha presentato ha avuto occasione di approfondire l'argomento e mi ha in replica anche detto alcune cose che mi fa piacere che lei abbia detto insomma che si trarrà conto si trarrà conto della realtà territoriale insomma allora qualcuno qui ha detto è facile gestire 300.000 cittadini un quartiere poco più di una città del Veneto tutti rossi o tutti neri io non sono proprio d'accordo insomma credo che la ricchezza di ogni territorio vada valorizzata sono consapevole che la politica deve cambiare deve radicalmente cambiare dobbiamo dare spazio se lei si candiderà sindaco io la voterò però voglio dire bisogna che bisogna che bisogna che la politica prenda in considerazione la necessità di cambiare lei ce l'ha in qualche maniera sottolineato però questa delibera non riesco a votarla favorevolmente però mi astengo perché ed è una stensione insomma anche benevola grazie grazie che sta facendo strada nel verso giusto di questi elementi e il nostro emendamento voleva evidenziare questo sulla proposta di delibera almeno personalmente avrò lo stesso atteggiamento che avrà la maggioranza nel votare il nostro ordine del giorno grazie grazie consigliere del bene bene scusate silenzio scusate bene allora sono dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto scusate faccio prima una comunicazione di servizio perché dopo a fine votazione non riesco più a farmi sentire per il prossimo lunedì verrà convocato il consiglio il 30 marzo consiglio comunale in sede di conferenze e capigruppo abbiamo già esaminato l'ordine dei lavori l'organizzazione dei lavori pertanto non non convucherò l'hp gruppo visto che abbiamo già deliberato e l'ordine dei lavori è il seguente 40 minuti dedicati alla presentazione del bilancio poi piano di razionalizzazione società partecipate ed eventuali altre delibere quindi mozioni e interrogazioni questo è quello che è stato deliberato alla conferenza mettiamo in votazione come da regolamento prima l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Delben Pasut Cermet e Daniello bene pertanto dichiaro aperte le votazioni sull'ordine del giorno presentato questa sera dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni esito della votazione seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 4 contrari 24 astenuti 5 l'ordine del giorno viene respinto poniamo ora ai voti l'emendamento presentato dal consigliere Piccinato dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni l'esito della votazione è la seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 1 contrari 26 astenuti 7 l'emendamento viene respinto poi per quanto riguarda l'emendamento presentato dai firmatari Giannelli e altri questo è stato accolto dall'amministrazione lo stesso per quanto riguarda il documento presentato alle specifiche pertanto adesso mettiamo in votazione la deliberazione numero 2 2015 legge regionale 26 del 12 dicembre 2014 piano di riordino territoriale adottato dalla giunta regionale con atto numero 180 del 4 febbraio 2015 osservazioni e determinazioni così come emendata dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni l'esito votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 29 contrari 3 astenuti 2 la delibera viene approvata bene passiamo ora i voti scusate possiamo ora i voti per scusate signore non è finito passiamo ora alla votazione sull'immediata eseguibilità dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni esce la votazione seguente presenti 32 votanti 31 maggioranza 21 favorevoli 29 contrari 1 astenuti 1 la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene signori dichiaro chiusi i lavori alle 23 in punto il consiglio verrà riconvocato a domicilio buonanotte grazie a tutti Grazie.